Questa iniziativa che il Centro Studi ha organizzato unitamente all'Assemblea Legislativa rientra tra due iniziative, la seconda dovrebbe svolgersi nel mese di luglio, che hanno come oggetto dei temi che sono strettamente legati proprio con l'attività istituzionale dell'Assemblea Legislativa. Oggi ragioneremo sulle regioni ed Europa, quindi sui rapporti tra le regioni e l'ordinamento europeo. Nel mese di luglio invece faremo una giornata di studio sull'articolo 116 della Costituzione, cioè sulle nuove funzioni, le nuove attribuzioni che le regioni stanno chiedendo in questo momento, anche la regione umbria. Dunque vorrei dire che noi abbiamo avuto da molte regioni italiane la richiesta da parte di funzionari dirigenti che non hanno potuto partecipare oggi a questa iniziativa, di poter però seguire i lavori di questo convegno. Quindi qui verranno ripresi e poi verranno ritrasmessi sul canale YouTube dell'Assemblea Legislativa, in modo tale che anche chi non ha potuto partecipare potrà seguirli. Io un breve saluto naturalmente a tutti i presenti, all'autorità, al signor Questore, che ringraziamo per la sua presenza, e devo ringraziare anche naturalmente l'Assemblea Legislativa nella persona della Presidente per il sostegno che sempre dà al nostro centro e particolarmente anche in queste occasioni e ringrazio naturalmente tutti i relatori che hanno accolto l'invito a partecipare a questa giornata. I ringraziamenti poi li devo anche allargare a chi ci ha aiutato a organizzare scientificamente questa giornata, al Professor Mauro Volpi, che anche per le sue competenze specifiche è stato fondamentale. Un ultimo ringraziamento alla nostra dirigente, che è la Dottoressa Iannucci, perché poi purtroppo per organizzare le cose bisogna lavorare in tanti, e al Dottor Iuri Rosi, che è il responsabile dell'Ufficio Legislativo della Regione. Quindi io do subito la parola alla Presidente Porzi e vi ringrazio ancora tutti. Grazie, sono io che ringrazio veramente la voca di Campiani, con lui il Centro Studi Giuridici e Polici della nostra Regione dell'Umbria per il lavoro straordinario che viene seguito veramente in questa struttura, di concerto con l'Università, con la nostra Assemblea Legislativa, e mi unisco ai ringraziamenti ai dirigenti Iannucci e Rosi per l'apporto a questo importante tema, un tema sul quale ci spendiamo e ci sentiamo molto coinvolti per le ricadute che questa prospettiva ha sulla nostra attività quotidiana. Sappiamo che le Regioni, per espressa previsione costituzionale nell'esercizio della potestà legislativa, sono innanzitutto vincolate al rispetto dell'ordinamento europeo. Per questo motivo quindi diventa importante riflettere e fare il punto della situazione sullo stato del circuito costituito dalle due fasi della costruzione delle regole europee e della loro attuazione. Proprio per questo motivo oggi sono presenti relatori veramente autorevoli che ringraziamo per la loro disponibilità, abbiamo per le istituzioni europee il professor Ponzano, per il Parlamento nazionale il dottore Sposito e per i consigli regionali credo che ci sia la dottoressa Sardella se non vado errato della regione Marche. Siamo consapevoli del crescente ruolo che i poteri locali con potestà legislativa stanno assumendo nel processo di formazione delle norme europee, ma questa attività che impegna sempre più assiduamente i consigli regionali è svolta, sappiamo, in maniera molto disomogenea e io di questa ne ho contezza per l'attività della conferenza dei consigli regionali dove appunto registriamo delle grandi discrasie tra regione e regione dove questo senso di formazione, di continuo scambio viene sempre più avvertito come un'esigenza ormai imprescindibile e quindi voglio ringraziare appunto la conferenza per aver in qualche maniera stimolato questo obiettivo per rappresentare uno strumento di raccordo, di condivisione di idee materiali e in ultime analisi per permetterci di assumere anche quelle posizioni da tenere e da assumere in maniera collegiale nei livelli in cui siamo rappresentati a livello europeo. Il raccordo delle strutture tecniche e l'analisi tempestiva delle proposte normative europee consente a livello politico regionale di essere adeguatamente informato in modo tale da poter sviluppare osservazioni e proposte di modifica degli atti europei in tempo utile ed evitare di trovarsi di fronte al fatto compiuto che molto spesso lagniamo come una delle cose che non gradiamo appunto dall'Europa che dall'alto ci fa cadere delle imposizioni che non calzano alle nostre realtà. Intendo dire che un'analisi tardiva delle proposte di nuove regole europee si riflette in assenza di osservazioni migliorative o in osservazioni tardive che si inseriscono nel procedimento di approvazione di queste regole soltanto nella fase avanzata della loro approvazione con il rischio di non essere prese in considerazione con l'effetto di vedere approvate direttive e regolamenti poco convenienti per le stanze e le esigenze dei nostri territori. Proprio su questa attività di early warning molte realtà regionali del centro e del nord Europa hanno nel tempo costruito la propria forza acquisendo migliore consapevolezza della dimensione europea dei fenomeni che ci riguardano e riuscendo a modellare le regole europee a propria convenienza sin dalla fase della loro costruzione. Conseguenza diretta di questo approccio è la migliore ed anticipata conoscenza delle norme dell'Unione circostanza che permette alle amministrazioni e dai settori economico e sociali in genere di potersi preparare ed organizzare debitamente in tempo utile senza dover scontare ritardi nel corretto adeguamento dei propri ordinamenti interni e nella gestione amministrativa che ne consegue. Questa attitudine rappresenta una componente essenziale della capacità politica che come sistema complessivo statale e regionale possiamo e dobbiamo coltivare meglio. Un recente esempio è rappresentato dal nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali che ha richiesto a tutte le amministrazioni di adeguarsi entro il 25 maggio scorso e che ha registrato svariati ritardi organizzativi e prima ancora normativi a tutti i livelli. Per compiere un passo in avanti sono da guardare con favore le collaborazioni tra le strutture istituzionali pubbliche e il mondo della ricerca universitaria. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti al professor Volpi qui presente che è sempre molto disponibile insieme al professor Raspadori e alle nostre istanze e alle nostre richieste. Questa sinergia non può che valorizzare la qualità del lavoro in campi che sono connotati da un alto tasso di tecnicità con un diretto beneficio per le iniziative dei livelli politici interessati. Più complessa per sua natura ma altrettanto fondamentale è la cosiddetta fase discendente quel tempestivo e corretto adeguamento degli ordinamenti nazionali e regionali alle nuove regole dell'UE problema questo strettamente legato agli aspetti che prima avevo accennato. Erronei o tardivi ricevimenti delle nuove regole dell'Unione spesso dipendono dalla loro scarsa conoscenza nella fase di predisposizione e di approvazione. Si tratta di un'attività tecnicamente complessa ma è ancora lontano il tempo in cui poter dire che gli ordinamenti regionali sono effettivamente conformi a quelli europei con il rischio di incorrere da una parte in sanzioni e dall'altra nella inefficienza del nostro sistema. Concludo accennando al fatto che il 29 maggio scorso si è svolta la sessione europea e l'Assemblea legislativa della nostra Regione ha approvato una risoluzione che ha indicato specifici indirizzi sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2018. In tale occasione abbiamo manifestato un particolare interesse a partecipare alla formazione dei progetti di atti relative alle iniziative sul quadro finanziario pluriennare successivo al 2020 in merito al pacchetto sull'equità sociale. Il tema delle risorse finanziarie per il periodo 2021-2027 anche a causa della Brexit diventa cruciale per la tutela e per la fusione dell'Unione e per alimentare i programmi di sviluppo regionali. Seguiremo quindi con molta attenzione gli sviluppi dell'approvazione del nuovo bilancio europeo e per quanto ci compete segnaleremo con forza la necessità di tutti quegli adeguamenti e modifiche che potranno rivelarsi utili per il nostro territorio affinché questo bilancio possa davvero rappresentare il volano della costruzione di un'effettiva Europa delle Regioni costruita cioè dal basso in grado di tener conto delle differenze caratterizzate dall'Unione. Voglio anche ricordare i nostri progetti rivolti al mondo della formazione e della scuola con i quali veramente ci spendiamo perché i nostri ragazzi diventino sempre più parte attiva diciamo in un processo soprattutto nella fase ascendente e qui voglio ricordare il nostro progetto Peo School che tanto successo sta avendo nelle scuole dell'Umbria e non solo per rappresentare questa piattaforma attraverso la quale si stabilisce un'interazione diretta con l'istituzione europea e voglio ringraziare il Centro Studi Giuridici proprio per quelle attività che sta mettendo in campo prima l'Avvocato Campiani faceva riferimento all'iniziativa del 13 luglio un altro tema molto importante verrà affrontato che è quello del 116 sul quale abbiamo approvato una risoluzione esattamente nell'ultimo consiglio e credo che in questa prospettiva dovremmo sempre più spenderci convinti che guardare all'Europa come attori fattivi e non diciamo come recettori soltanto di quelle che possono essere le linee e gli indirizzi che vengono dall'alto sia il compito verso il quale guardare sempre con maggior interesse con maggiore fiducia senza perderci d'animo anche in momenti nei quali questa istituzione viene un po' messa in crisi e diciamo così sollecitata ad altre forme di collaborazione tra i paesi che la compongono grazie e buon lavoro a tutti noi grazie Presidente Pozzi certo certo Roberto Morroni che poi interverrà anche nel pomeriggio io adesso prima di dare la parola al Professor Datena che poi devo ringraziare in maniera particolare perché lui ci ha onorato la sua presenza anche in altre occasioni e è sempre stato nei nostri confronti disponibile per questo lo ringraziamo molto non so se il Professor Volpi voleva dire una parola rapidamente sì io ho chiesto al Presidente di fare un brevissimo intervento di tre minuti per ricordare una persona che è scomparsa nei giorni scorsi e che se fosse ancora trano sarebbe oggi sicuramente in prima fila in questo convegno l'Avvocato Fabrizio Leonelli Fabrizio era figlio di un famosissimo Avvocato il padre Leonelli aveva fondato uno studio che è stato tra i più importanti studi professionali di Perugia è stato sempre impegnato civilmente culturalmente ultimamente nel Movimento Federativo Europeo ma era anche socio di libertà e giustizia come chi vi parla e quindi abbiamo avuto modo sempre di confrontarci aveva una grandissima preparazione e curiosità culturale e intellettuale i suoi interventi non erano mai banali erano sempre profondi e ponevano dei problemi e si era impegnato molto negli ultimi tempi soprattutto sulla questione europea era un europeista convinto uno spinelliano come dire a tutto tondo e quindi ecco mi pare che in questa occasione non potesse non essere ricordato voglio anche ricordare che il figlio Giacomo che si è lavorato in giurisprudenza è attualmente consigliere regionale e quindi grazie 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 allora adesso ascoltiamo la relazione introduttiva del professor D'Atena grazie grazie presidente essendomi stata affidata alla relazione introduttiva io traccerò un quadro generale prendendo le mosse da un modello teorico che è stato sviluppato negli anni 90 a Berlino presso l'università von Humboldt da un gruppo che faceva capo al professor Pernis Ingolf Pernis ed è il modello teorico del costituzionalismo multilivello un modello che venne elaborato per tener conto della giusta posizione tra il livello costituzionale degli stati e il livello costituzionale europeo riconoscendoli sempre più la presenza di una costituzione ancorché non scritta non consegnata in un documento singolo ma dispersa se così si può dirsi tra i trattati a livello europeo tanto che oggi in relazione a quel modello si parla di costituzioni parziali degli stati ed è l'inespressione di Peter Heberle Teil für Fass nelle costituzioni parziali questo modello teorico aveva un precedente un precedente che ha a che fare con la storia del federalismo non era stato elaborato in quanto tale però già negli ordinamenti federali classici si registrano due livelli di costituzione due livelli costituzionali da un lato la costituzione federale d'altro lato le costituzioni degli stati membri che non dobbiamo dimenticarlo sono autentiche costituzioni quindi corrispondono a quel paradigma generale che è stato fissato e che più ancora utilizzato dall'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 cioè un ordinamento il quale non ha divisione dei poteri e garanzia dei diritti fondamentali e privo di costituzione ebbene il costituzionalismo multirivello conosce negli ordinamenti che presentano la presenza di livelli istituzionali substatali il massimo di complessità a volte si tratta di un livello costituzionale in senso proprio quello che accade negli stati federali ma anche negli stati regionali si può parlare anche se non c'è un costituzionalismo in senso proprio di un livello costituzionale ora perché questa complessità perché diverse sono le logiche che ispirano i due livelli che vengono a circondare il livello statale da un lato abbiamo una dinamica di spostamento di competenze verso l'alto è quello che accade per l'Europa d'altro lato abbiamo spostamento di competenze verso il basso questo lo vediamo chiaramente nei sistemi regionali e poi per la filosofia di fondo da un lato una filosofia di concentrazione di accentramento delle competenze a livello sovranazionale d'altro lato lo spostamento delle competenze a livello infranazionale e allora se si considera tutto questo non può sorprendere che nel momento in cui hanno fatto storicamente la propria apparizione i primi tentativi di integrazione sovranazionale in Europa mi riferisco alla nascita delle comunità europee gli ordinamenti che conoscevano delle entità substatali in particolare l'ordinamento tedesco per quanto riguarda l'esistenza dei Lender nell'Europa dei Sei e in Italia quel regionalismo zoppo dovuto alla presenza delle regioni di autonomia ordinaria beh questo sistema e questo livello infranazionale ha subito una forma di shock tanto che in Germania si parla di provincializzazione degli stati membri che cosa succede? perché l'insorgere di un livello sovranazionale comporta delle perdite secche di competenze di prerogative da parte degli stati membri anzitutto vengono meno quelli che i tedeschi chiamano i poteri di interazione cioè nel momento in cui lo spostamento della legislazione avviene a livello sovranazionale quei poteri che hanno rispetto alla legislazione le regioni e i lender vengono meno le regioni non possono esercitare iniziativa legislativa cinque regioni non possono esercitare il referendum nei confronti della legislazione europea e i lender poi attraverso il bond del serato non possono partecipare alle legislazioni il secondo versante è quello della tutela giurisdizionale un elemento che caratterizza gli ordinamenti regionali e federali è che c'è una tutela giurisdizionale delle competenze ma tutela giurisdizionale delle competenze che viene meno se a decidere diventa Bruxelles perché in quel caso le competenze non possono essere rivendicate davanti agli organi giurisdizioni costituzionali e nazionali le regioni non sono dei ricorrenti privilegiati nell'ordinamento europeo e abbiamo poi un terzo aspetto che è particolarmente rilevante ed è rappresentato dal fatto che una serie di competenze che le costituzioni riservano a livello infranazionale substatale risultano spostate a livello europeo faccio un esempio relativamente all'Italia molto rilevante è l'esempio dell'agricoltura in agricoltura abbiamo una pressione di migliaia di regolamenti l'anno si tratta a volte di regolamenti molto minuti ora è chiaro è chiaro che in questo in questa pressione normativa comunitaria finisce per espropriare le regioni delle loro competenze legislative analoge considerazioni per completare il quadro bisogna ricordare una patologia oculistica originaria della comunità la comunità non vedeva le regioni si è parlato di land splint di cecità regionale e cosa significa che non vedesse le regioni significa che tutta l'organizzazione comunitaria e tutti i procedimenti comunitari venivano imperniati sugli stati sul livello centrale e non sul livello regionale se vogliamo considerare poi per completare il quadro la posizione delle regioni italiane vediamo un ulteriore elemento di crisi rappresentato dal fatto che la Costituzione del 1947 pur essendo una Costituzione molto apprezzabile per molti aspetti e per questa parte largamente ispirata all'esperienza federale mitereuropea e al giornalismo spagnolo della Costituzione della Seconda Repubblica tuttavia aveva dimenticato di introdurre un meccanismo per ovviare all'inerzia delle regioni quel meccanismo quel potere sostitutivo che era previsto per esempio dalla Costituzione austriaca e allora che cosa succedeva se le regioni rispetto nelle materie di loro competenza dove era ragionevole ritenere che fossero chiamate ad eseguire ad attuare gli atti della comunità allora si parlava di comunità europea si rendessero inattive oppure agissero non fedelmente rispetto al contenuto di quegli anni lo Stato sarebbe stato disarmato scrive la Corte Costituzionale in una sua celebre sentenza dovuta se non ricordo male alla penna di Cassandro e allora passa la giurisprudenza che diventa costante secondo cui in tutte le materie nelle quali fosse stato un processo di europeizzazione della competenza quindi fossero intervenuti i poteri delle comunità europee le regioni avrebbero perso la loro competenza la competenza regionale sarebbe passata allo Stato poi ecco questa che parve una stranezza all'inizio ma in realtà è coerente con il modello accadeva poi che lo Stato delegasse alle regioni le competenze ad eseguire gli atti comunitari e allora qualcuno osservava ma com'è lo Stato si appropria della competenza e poi la delega alle regioni sì perché delegando disponeva di quel potere sostitutivo di cui era altrimenti priva quindi questo un quadro generale quindi il quadro di un di un trauma per il livello regionale dovuto al processo di integrazione europea questo rende comprensibile per quale ragione una delle richieste più che dalle regioni italiane che allora erano soltanto le regioni d'autonomia speciale ma dai lender tedeschi una delle richieste maggiori fosse quella di emanciparsi da questa originaria provincializzazione all'inizio l'esigenza viene sacrificata per ragioni evidenti per il fatto che in Europa i lender tedeschi e le cinque regioni italiane dell'autonomia speciale erano le eccezioni la regola era rappresentata dallo stato di pronta francese gli altri stati obbedivano tutti a quel modello e allora è chiaro che insomma si potesse considerare il sistema federale o regionale una bizzarria costituzionale di qualche ordinamento un elemento che quindi non avrebbe giustificato una disciplina comunitaria modellata su queste esigenze ma la situazione cambia cambia a partire dagli anni 70 nel 70 si regionalizza per intero l'Italia negli anni 70 si assiste alla regionalizzazione del Belgio regionalizzazione che poi sarà la tappa per un progresso ulteriore nel 1993 nasce il Belgio federale negli anni 80 entrano in Europa degli stati la Spagna e il Portogallo che durante tutta la fase autoritaria la lunga fase autoritaria che ha preceduto poi questa apertura alle istanze democratiche erano state di tipo unitario centralizzato è molto singolare per esempio che il regionalismo nasce nella Germania della nella Spagna della seconda repubblica ma poi quando viene il franchismo viene completamente superato si ritorna ad un sistema di centralizzazione delle competenze perché ecco questo forse è un punto sul quale vale la pena di riflettere un momento cioè il fatto che la presenza di stanze regionali o federali in un ordinamento è in genere un antidoto nei confronti di involuzioni autoritarie si introduce nel sistema una tale complicazione per cui diventa difficile poi governare il sistema dal centro insomma avere una stanza dei bottoni e abbiamo delle evidenze storiche molto molto significative a questo riguardo si pensi per esempio all'avvento del nazionalsocialismo una delle prime cose che nella sua lucidissima politica costituzionale realizza Hitler è l'abolizione del federalismo proprio perché non è concepibile non è possibile dover fare i conti con parlamenti eletti a livello territoriale con una camera che rappresenta questi livelli territoriali abbiamo poi l'ingresso dell'Austria un ordinamento federale di antica tradizione federale nel sistema europeo e la devoluzione in Gran Bretagna e quindi ormai le regioni non sono più un'eccezione c'è un contagio regionale che si è diffuso per tutta Europa e quindi la conseguenza è che c'è una riduzione della provincializzazione originaria sia a livello di Unione Europea sia a livello degli Stati membri uso l'espressione Unione Europea perché ormai è quella insomma se no dovremmo distinguere nel tempo all'inizio per quanto riguarda il versante europeo comunitario abbiamo un processo graduale che avviene insomma come accadono poi le cose in Europa in maniera molto pragmatica senza scomodare grandi principi nel 1984 una dichiarazione comune delle istituzioni comunitarie le quali si ripromettono di approfittare se agli Stati lo consentono della collaborazione dell'autorità regionale e locale quindi quelle regioni quel livello interno che veniva non percepito comincia ad essere visto poi abbiamo sempre negli anni 80 nell'88 in particolare la la nascita del consiglio consultivo degli enti regionali e locali l'antenato del comitato delle regioni consiglio consultivo della commissione e nell'88 ancora la carta europea dell'autonomia locale la quale assume la forma di una risoluzione del Parlamento europeo rivolta a promuovere la regionalizzazione però finora fino a quando ci si è limitati a questi passi il fenomeno si è svolto senza particolare clamore assume invece una maggiore visibilità con il trattato di Maastricht un'autentica svolta nel 1992 nel trattato di Maastricht abbiamo delle novità che modificano profondamente la condizione delle regioni anzitutto l'apertura del consiglio dei ministri ai ministri locali ministri substatari in secondo luogo la creazione del comitato delle regioni in terzo luogo l'introduzione del principio di sussidiarietà sono tre elementi che si rivelano decisivi per quanto per quanto riguarda per quanto riguarda il tema che ci interessa e le modifiche successive trovano espressione soprattutto nel rafforzamento del comitato delle regioni con Amsterdam il regolamento diventa un regolamento interno cade l'affrovazione da parte del consiglio con Nizza si codifica una prassi che si era sviluppata in concreto cioè che la nomina dovesse presupporre la titolarità di un mandato elettivo e che la proposta degli stati fosse vincolante cosa che non era scritto nei trattati anche se di fatto questo avveniva e poi abbiamo Lisbona e con Lisbona i cambiamenti sono ancora più profondi io qua mi limito a ricordare alcune cose il preambolo della carta di diritti fondamentali la carta diventa un trattato internazionale quindi acquista uno status molto più solido di quello che fosse in precedenza nel preambolo si afferma che l'Unione contribuisce al montonimento e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture delle tradizioni dell'identità nazionale e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale regionale e locale l'articolo 4,2 del trattato dell'Unione europea prevede che l'Unione europea rispetta l'eguaglianza degli stati membri compreso il sistema dell'autonomia regionale e locale e si continua quindi in questo senso c'è un'innovazione di ordine che io considero simbolico dei colleghi lo considerano molto rilevante io no dal punto di vista giuridico considero assolutamente rilevante simbolicamente è un fatto che ha un certo significato la previsione che quella insufficienza degli stati membri che giustifica l'intervento comunitario alla luce del principio di sussidiarietà scatti anche quando non possano operare autorità regionali e locali ora questo prima non si diceva però è fuori discussione che anche in precedenza qualora lo Stato con tutti i mezzi a sua disposizione compresi i poteri locali non fosse in condizione di adempiere di realizzare l'obiettivo comunitario fosse sufficiente fosse sufficiente l'adeguatezza dello Stato sarebbe valsa perché sarebbe stato molto strano ritenere che non potendo lo Stato ma potendo le regioni allora sarebbe intervenuta la comunità sarebbe stato un risultato assolutamente paradossale e poi ecco abbiamo il Comitato delle Regioni e sul Comitato delle Regioni abbiamo il riconoscimento del potere di impugnare gli atti comunitari nei confronti dei quali sia stato richiesto il parere del Comitato per la sussidiarietà e poi la procedimentalizzazione del principio di sussidiarietà che viene ulteriormente approfondita prevedendosi che possano essere consultati anche i parlamenti locali quindi c'è un'apertura che cambia completamente il quadro rispetto alla situazione pregressi il versante nazionale sul versante nazionale è inutile dire che il ruolo degli Stati è imprescindibile sia perché l'Unione Europea ha un certo self-restraint nei confronti degli Stati cioè non intende ingerirsi di quelli che sono affari interni e quindi apre delle porte crea delle possibilità però naturalmente queste possibilità vanno battute dagli Stati a seconda del modo in cui ritengono di farlo poi c'è da dire che certe volte le compensazioni che ottengono le Regioni che sono compensazioni questa volta nella fase ascendente del procedimento comunitario di decisione sono compensazioni che si svolgono per intero all'interno dell'ordinamento giuridico statale quindi qui è necessario che ci sia che ci sia la partecipazione degli Stati ora cosa possiamo dire per quanto riguarda questo tema qua possiamo distinguere tre ambiti tematici la fase ascendente la fase discendente della tutela giuridizionale ora per quanto per quanto riguarda la fase ascendente la tendenza oggi è la tendenza all'omologazione ecco in precedenza in precedenza non era questa la situazione per quanto riguarda l'Italia in particolare dal momento che non c'era per esempio non era prevista in alcun modo la partecipazione di esponenti regionali alle riunioni del Consiglio dei Ministri europei adesso invece è possibile che quando si tratti di materie regionali della delegazione che partecipa al Consiglio dei Ministri facciano parte due presidenti di regione una per le regioni ordinarie una per le regioni speciali fermo restando che il capodelegazione sia statale a meno che non venga concordata una soluzione diversa di volta in volta se vogliamo fare un panorama europeo in posizione deteriore sono rimaste le regioni portoghesi che sono peraltro un'eccezione insomma le Azzorro e Madera il Comitato delle Regioni allora il Comitato delle Regioni noi possiamo anzitutto prendere in considerazione la tecnica rappresentativa usata la tecnica rappresentativa è una tecnica di rappresentanza collettiva necessariamente per gli antilocali non è possibile che tutti gli antilocali siano singolarmente rappresentati nel Comitato delle Regioni e la rappresentanza individuale vale invece per le entità substatali però ecco è da dire che qui le regioni italiane si trovano in posizione deteriore rispetto alle altre regioni dal momento che dei 24 membri del Comitato delle Regioni 14 sono dati a livello regionale 10 sono dati a livello locale il che ha una sua spiegazione risente del fatto che il potere locale ha una presenza nel nostro ordinamento istituzionale molto forte voi considerate che in Germania ne vanno 3 3 rappresentanti degli antilocali perché poi sono rappresentati tutti i Lender addirittura ci sono rappresentanze a rotazione rappresentanze rinforzate per i Lender ora in Italia abbiamo questa situazione una situazione che privilegia privilegia questo 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 livello ecco faccio un esempio il Belgio in Belgio non c'è nessun membro titolare che sia rappresentante dei poteri locali quindi abbiamo proprio una una situazione rovesciata e quindi possiamo possiamo dire per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri abbiamo avuto una una omologazione dell'ordinamento italiano agli altri ordinamenti per quanto riguarda il Comitato delle Regioni resta questa differenza ora si potrebbe dire che in fondo non è rilevante che ci sia un rappresentante per ogni regione nel Comitato delle Regioni visto che i membri del Comitato sono tenuti ad essere indipendenti non possono ricevere nessuna istruzione da parte da parte da nessuno quindi neanche da parte della Regione di appartenenza però non ci possiamo nascondere dietro un dito è evidente che se c'è il rappresentante della Regione X il rappresentante farà sentire la sua voce farà sentire le esigenze della Regione misura molto più piena di quanto non possa fare un rappresentante che collettivamente rappresenti più regioni quindi in questo senso c'è una penalizzazione dell'Italia la fase discendente ora nella fase discendente oggi possiamo dire questo la regola è che l'attività di esecuzione esecuzione dei regolamenti un'attività fondamentalmente amministrativa e l'attività di attuazione delle direttive un'attività fondamentalmente normativa seguono il riparto delle competenze quindi se la competenza è regionale opera la Regione questo potrebbe apparire ovvio però non è ovvio non era ovvio in Italia per esempio per quella ragione che ho ricordato all'inizio quando le comunità europee intervenivano poi l'attività a valle dell'intervento comunitario veniva svolta dallo Stato proprio perché mancava del potere sostitutivo poi a un certo punto si è cercato di superare questa difficoltà direi malamente con il decreto 616 del 1977 il quale da un lato riconove il potere delle regioni e da un lato introdusse il potere sostitutivo ora il problema qual era? il problema era che questo ce l'ha insegnato Hans Kelsen in uno scritto classico sulla esecuzione federale che l'intervento sostitutivo è una deroga al riparto costituzionale delle competenze e quindi se il riparto delle competenze è effettuato come era effettuato e come è effettuato dalla Costituzione ovviamente il potere sostitutivo poteva essere previsto soltanto con legge costituzionale e questo è quello che poi farà la riforma del titolo del titolo quinto la riforma del del 2000 del 2001 la quale a questo punto chiude in maniera propria il sistema perché da un lato riconosce alle regioni il potere di partecipare alla formazione quindi partecipare alla fase ascendente partecipare all'esecuzione attuazione fase discendente riservando allo Stato il potere di regolare il potere sostitutivo e anzi si può rilevare che in questo caso prevedendosi che la sostituzione possa essere effettuata dallo Stato si prevede una sostituzione che possa avvenire anche a livello parlamentare con una legge mentre poi negli altri casi di potere sostitutivo di quell'articolo 120 secondo comma della Costituzione si parla di governo e quindi non ci può essere la legge si potrà essere il decreto legge nei casi in cui possa farsi ricorso al decreto legge ecco un problema ecco la sostituzione qui forse è il caso di spendere qualche parola anche considerando comparatisticamente il tema il congegno della sostituzione così come lo conosciamo nasce in Austria nasce in Austria e poi viene ripreso ad altri ordinamenti ed è un sistema specializzato si prevede un intervento in luogo che è rivolto a sostituire un atto puntuale di un altro soggetto quindi un ente incompetente diventa competente provvisoriamente poi la competenza potendo essere ripresa dal soggetto che ne è originariamente titolare l'altro sistema invece è un sistema che è molto generico la coercizione federale il sistema tedesco che è stato poi ripreso letteralmente con una traduzione letterale della costituzione tedesca della legge fondamentale dalla costituzione spagnola il quale prevede che se un lant non adempa i doveri federali derivanti della legge fondamentale ad un'altra legge federale con l'assenso del Bund può adottare le misure necessarie ad obbligare il lant mediante la coercizione ora questo strumento è stato finora uno strumento consegnato ai libri di diritto costituzionale c'erano i commentari che commentavano sia in Germania che in Spagna se non che ha ricevuto recentemente un'attuazione in occasione del caso della Catalogna ed è molto interessante il provvedimento che ha adottato allora il consiglio dei ministri nei confronti della Catalogna poi il senato lì ha un potere di approvazione però non è un'approvazione all'italiana cioè nel senso del prendere o lasciare è un'approvazione con emendamenti per esempio il Parlamento non è stato sciolto ecco noi abbiamo lo strumento dello scioglimento nel nostro caso fosse avvenuto una cosa del genere in Italia in Italia avremmo avuto lo scioglimento del consiglio regionale l'azzeramento di tutti gli organi per ritornare invece in quel caso certo per quanto riguarda il governo è stato azzerato e si è cambiata la linea di comando cioè si è lasciata in perché il problema poi è questo l'amministrazione insomma è una struttura pesante non può essere sostituita quindi si cambia la catena di comando prevedendosi dei poteri particolari ma il Parlamento è rimasto in piedi perdendo delle prerogative però il Senato si è preoccupato che non le perdisse eccessivamente le prerogative quindi è stato molto interessante questo sarebbe un argomento interessante da trattare in Italia abbiamo detto il meccanismo è quello della esecuzione federale quindi il potere sostitutivo in senso proprio e possiamo dire che la disciplina italiana rispetto alle discipline di altri ordinamenti che hanno lo stesso potere mi riferisco alla disciplina belga o alla disciplina austriaca quella originaria è meno garantistica nei confronti dalle regioni ma in fondo più efficiente meno garantistica perché in quelle in quelle esperienze costituzionali l'inadempienza regionale si ha per concretizzata nel momento in cui vi sia una condanna della Corte di Giustizia quindi praticamente il sistema serve a contemplare l'intervenuta inadempienza nel caso dell'Italia invece è possibile l'intervento preventivo e quindi è uno strumento io mi ricordo parecchi anni fa organizzai a Roma un convegno su questo tema e i colleghi degli altri ordinamenti il belga e l'austriaco consideravano con invidia la situazione la situazione italiana poi ecco un altro sistema che si è sviluppato in via giurisprudenziale in Italia e in Francia mentre mi pare che sia provvisto di una previsione costituzionale in Portogallo il sistema delle clausole di cedevolezza cioè la previsione dell'intervento preventivo quindi lo Stato comunque interviene con una disciplina cedevole quindi disciplina modificabile da parte delle regioni accenniamo all'ultima questione la tutela giurisdizionale e questo è una delle cose più tradizionalmente di cui più tradizionalmente si tolgono le regioni soprattutto i lender tedeschi ma anche adesso le regioni belga il fatto che le regioni non possano rivolgersi alla Corte di Giustizia qualora sia determinata da parte delle istituzioni comunitarie una violazione del diritto comunitario che ridoni in violazione delle competenze regionali io personalmente sono sempre stato contrario all'introduzione di questo meccanismo per una ragione che a me sembra piuttosto semplice perché la Corte di Giustizia nel momento in cui deve accertare che il ricorso sia appropriatamente posto dalla Regione deve interpretare le norme costituzionali sul riparto delle competenze quindi usurpando un ruolo che in definitiva è bene che aspetti alle Corti Costituzionali e rimanga quindi nella disponibilità delle Corti Costituzionali si può dire si può dire quindi che la soluzione qual è? le regioni chiedono allo Stato di rivolgersi alla Corte di Giustizia ed è quello che normalmente si è previsto dagli ordinamenti e qui c'è una stranezza italiana perché mentre per esempio nell'ordinamento tedesco nell'ordinamento austriaco si riserva allo Stato poi un margine di approvazione di ultima valutazione nel senso che lo Stato valuta se sia poi o meno il caso di rivolgersi alla Corte di Giustizia perché insomma il contenzioso comunitario insomma involge anche considerazioni politiche che sono di pertinenza dello Stato e quindi questa possibilità è esclusa in questi ordinamenti invece in Italia se c'è la richiesta a maggioranza delle regioni lo Stato è tenuto a rivolgersi alla Corte di Giustizia differenza peraltro lì è la Costituzione a prevederlo e quindi è una disciplina questa è una disciplina poi sempre sempre disponibile dal legislatore italiano un'ultima cosa e concludo riferite a quella patologia alcunistica di cui parlavo all'inizio la cecità regionale è possibile andare oltre di quanto si è fatto finora si è fatto con Maastricht e con i trattati successivi soprattutto con Lisbona oppure è da ritenere che sia difficile spingersi al di là io penso che sia difficile spingersi al di là in particolare per esempio trovo assolutamente irragionevole l'ipotesi dell'Europa delle regioni l'ipotesi caldeggiata all'epoca non a caso da Gianfranco Miglio il quale sosteneva che una volta realizzato un sistema molto integrato europeo gli stati sarebbero dissorti e sarebbero rimaste soltanto le regioni tra l'altro mi sembra che questo sia l'errore di prospettiva in cui è caduta la Catalonia quando si aspettava e chiedeva il sostegno dell'Unione Europea la quale giustamente ha detto io che fare con gli stati non posso non posso assecondare assecondare una regione d'altra parte gli stati sono ci insegnano i tedeschi signori dei trattati quindi per realizzare un obiettivo del genere bisognerebbe modificare i trattati per modificare i trattati ci vuole una propensione degli stati al suicidio ora ammettiamo pure che qualche stato sia risposto ma non credo ma voi pensate alla Francia pensate al fatto che la regola in Europa è costituita dagli stati nazionali cioè lo stato multinazionale ce ne sono più di uno ma è un'eccezione quindi insomma immaginare che questo modello sono regioni che sostituiscano gli stati come enti basilari del sistema europeo è un'idea abbastanza campata per aria l'altra ipotesi è che si crei una camera delle regioni quindi ecco un sistema istituzionale molto articolato in cui il Parlamento diventerebbe bicamerale un Parlamento una Camera dei rappresentanti la Camera del Parlamento europeo e poi la Camera delle regioni ora la Camera delle regioni si giustificherebbe se ci fossero competenze omogenee tra tutte le regioni che ci sono ma ci sono stati che non hanno regioni ma poi quando andiamo a considerare gli stati che le regioni le hanno e non sono moltissime le regioni mi accuso la terminologia comunitaria che è comprensiva anche degli stati membri dell'ordinamento federale i lender sono regioni vediamo per esempio che i lender tedeschi hanno la cosiddetta la cosiddetta sovranità culturale la materia della cultura è la materia dell'anno tedesco ma non è materia delle regioni italiane e quindi su che basi costruire questa Camera delle regioni quindi questa è la ragione per la quale ritengo che il punto a cui siamo arrivati sia un punto abbastanza soddisfacente ma sia difficile andare oltre vi ringrazio grazie grazie presidente grazie dell'invito anche agli organizzatori io cercherò per la mia esperienza di funzionario dell'Unione Europea durante 38 anni vi parlerò maggiormente delle relazioni appunto tra le istituzioni europee e il livello nazionale o regionale che come ha spiegato il professor d'Atena varia da uno stato all'altro e soprattutto vi ricorderò ma brevemente perché alcuni elementi sono già stati forniti nella prima relazione delle innovazioni che il trattato di Lisbona quello che oggi in vigore ha portato alle relazioni tra parlamenti nazionali e regionali e le istituzioni europee con uno sguardo non solo ai trattati ma anche alla prassi perché bisogna considerare che non sempre quello che è scritto troviamo scritto dei trattati anche quando innova rispetto all'ordinamento precedente dell'Unione Europea che come è stato detto non conosceva inizialmente per nulla il fatto regionale lo ignorava perché preferiva trattare solo con i rappresentanti statali dello Stato e diciamo l'applicazione pratica di queste innovazioni che non sempre come vedremo anche se non avrò il tempo di entrare in tutti i dettagli non sempre queste innovazioni sono state tradotte almeno a livello europeo in cambiamenti sostanziali della legislazione europea e del procedimento legislativo vi dirò anche per quale ragione e quindi vi farò anche una piccola analisi delle disposizioni rispetto a quello che è stata la loro applicazione pratica dunque in breve per sottolineare per enumerare le innovazioni fondamentali in fatto di presa in considerazione dei parlamenti nazionali e regionali nel processo legislativo europeo cioè nella fase ascendente vi ricordo brevemente quali sono le innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona la prima su cui mi soffermerò più tardi è quella del cosiddetto early warning system cioè il meccanismo per cui si dà ai parlamenti nazionali e se del caso come dice il trattato alle regioni che hanno competenze legislative la possibilità di intervenire nel controllo degli atti legislativi europei soltanto però che questo controllo va ricordato e vi dirò anche il perché è stato ridotto agli aspetti della sussidiarietà che è un principio che riguarda l'esercizio delle competenze non riguarda l'intensità dell'azione dell'Unione europea ma riguarda soltanto il problema di sapere chi è competente per emanare un atto legislativo è vero come vedremo che i parlamenti nazionali e i regionali hanno cercato di interpretare e di applicare questo principio del protocollo in maniera più ampia perché grazie anche a un dialogo che la commissione ha instaurato autonomamente con i parlamenti nazionali si è dato la possibilità a questi ultimi di fare valutazioni esprimere delle opinioni non solo sulla sussidiarietà ma anche sulla proporzionalità dell'atto e anche sul contenuto dell'atto stesso però non c'è un meccanismo sanzionatorio mentre per la sussidiarietà in presenza di certi elementi di procedura c'è la possibilità di intervenire e anche di bloccare un atto legislativo europeo quando i parlamenti nazionali o regionali si esprimono sul contenuto dell'atto o sulla proporzionalità dei mezzi per raggiungere un obiettivo voluto dalla legge europea non c'è un meccanismo che permette di sanzionare un'eventuale violazione del principio di proporzionalità né a forse ori di dare soddisfazione ai parlamenti nazionali se esprimono delle obiezioni sul contenuto stesso dell'atto legislativo poi i parlamenti nazionali hanno avuto tutta una serie di competenze che sono essenzialmente di informazione prima bisogna ricordare credo l'abbia detto già il professor D'Atena che in virtù del fatto che l'Unione Europea riconosceva solo lo Stato nazionale addirittura le proposte della Commissione e anche i documenti di consultazione non potevano essere mandati ai parlamenti nazionali autonomamente la Commissione doveva mandare alla rappresentanza permanente dello Stato il documento o la sua proposta affinché questi lo trasmettesse successivamente ai parlamenti nazionali perché? per quale ragione? perché i governi nazionali non volevano un contatto diretto tra la Commissione e gli parlamenti nazionali per paura di essere interpellati immediatamente da un parlamentare che ponesse una domanda perché il governo perché questa proposta o perché il governo non ha fatto un'obiezione a una proposta della Commissione quindi volevano fare agire da filtro vedere prima la proposta prepararsi a eventuali risposte e poi trasmettevano il testo ai parlamenti nazionali per fortuna la Commissione ha deciso autonomamente ma non ci sono state obiezioni specialmente dopo la decisione di associare maggiormente i parlamenti nazionali e regionali al processo legislativo europeo la Commissione ha deciso di mandare direttamente i suoi testi appena partono diciamo al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo vanno direttamente anche ai parlamenti nazionali dei vari stati per il resto il Trattato di Lisbona quindi ha dato ai parlamenti nazionali tutta una serie di possibilità di informazione e di intervenire quindi nelle decisioni per l'adesione di nuovi stati per un potere che direi di ostativo sul cosiddetto utilizzo delle clausole che permettono che permetterebbero se fossero utilizzate finora non lo sono state di passare dalla regola della unanimità per le decisioni del Consiglio a quella della maggioranza come anche alla possibilità di modificare la procedura legislativa da quella cosiddetta speciale in cui il Consiglio decide ma il Parlamento europeo ha solo un potere di consultazione passare alla procedura ordinaria in cui per adottare una legge europea ci vuole l'accordo di entrambe le due camere dell'organo legislativo cioè un accordo del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri sullo stesso sul testo della legge europea il resto sono essenzialmente delle possibilità di nuove di informazione e di permettendo così ai Parlamenti nazionali di seguire il controllo di alcune agenzie di esaminare l'applicazione dell'articolo che si chiama la clausola di flessibilità dell'articolo 352 che permette all'Unione europea di leggiferare anche quando non ci sono competenze specifiche previste dal trattato eccetera eccetera non vi menziono tutte le altre diciamo attività disposizioni che permettono ai Parlamenti nazionali di intervenire essendo informati specificamente dalle istituzioni europee e dalla Commissione in particolare il trattato introduce anche dei principi che sarebbero diciamo se applicati se ci fossero meccanismi di disanzione sarebbero molto importanti per esempio c'è l'articolo che prevede il cosiddetto principio di prossimità secondo cui le decisioni dovrebbero essere prese il più possibile vicino ai cittadini che cosa significa che se fosse vero diciamo una legge europea potrebbe essere sanzionata se invece di essere di prevedere disposizioni che siano adottate in modo il più possibile vicino ai cittadini ne disconoscessero per esempio la possibilità di intervento in quanto fossero prese soltanto a livello europeo senza applicare questo principio di prossimità il professor D'Atena ha ricordato già che il trattato ha previsto anche la ha riconosciuto non solo la salvaguardia delle identità nazionali ma anche delle identità regionali cosa che sarebbe anche questo importante se ci fosse un meccanismo sanzionatorio che permettesse di giudicare di sanzionare una legge europea che non salvaguardasse le identità regionali il trattato introduce anche la cosiddetta coesione territoriale che non esisteva nei trattati precedenti si parlava di coesione economica e sociale adesso c'è il trattato di Lisbona parla anche di coesione territoriale il che vuol dire che tutte le regioni in pratica sono che siano sfavorite o favorite o sfavorite il trattato prevede fra l'altro un'attenzione particolare alle regioni insulari alle regioni di montagna e alle regioni che si trovano quindi in situazione di difficoltà gli si dà una praticamente una equiparazione e una legge europea che violasse la coesione territoriale potrebbe fare l'oggetto di un intervento del Comitato delle Regioni e quindi anche di un ricorso di questa istituzione se non venisse rispettato il principio della coesione tra territoriale ci sono altri meccanismi ma non vorrei soffermarmi troppo per non per togliere spazio alle cose principali cioè al meccanismo di early warning su cui mi soffermerò maggiormente perché è quello che prevede un meccanismo sanzionatorio a differenza di altri principi iscritti nel trattato perché si è dato questo si è introdotto questo meccanismo di controllo di allerta precoce perché si voleva dopo il trattato di Maastricht e di Amsterdam in cui venivano date alle istituzioni europee delle competenze supplementari che quindi proprio perché venivano date alle istituzioni europee venivano sottratte agli organi competenti sul tema nazionale una possibilità di influenzare di partecipare al processo legislativo europeo sia perché c'è questa perdita di competenze da parte degli stati e quindi dei parlamenti nazionali sia perché in alcuni settori queste competenze non sono neanche riprese interamente dal Parlamento europeo perché anche se la procedura di co-decisione cioè di avere un accordo congiunto di Parlamento europeo e Consiglio vale per l'80% delle leggi europee c'è sempre un 20% in cui il Consiglio decide senza l'accordo del Parlamento europeo quindi questa perdita dei parlamenti nazionali non viene compensata neanche dall'intervento del Parlamento europeo e quindi si è detto bisogna associare i parlamenti nazionali inizialmente si voleva dare ai parlamenti nazionali nei lavori poi hanno condotto alla Convenzione europea e all'adozione del Trattato sulla Costituzione che come sapete non è entrato in vigore ma che è stato ripreso essenzialmente nel contenuto dal Trattato di Lisbona si voleva quindi dare una partecipazione diretta ai parlamenti nazionali non solo sulla sussiderità ma sull'insieme sul contenuto della legge europea questo però è stato scartato nei lavori della Convenzione europea perché si è ritenuto che creare un altro un organo addirittura il governo britannico aveva proposto l'introduzione di una seconda Camera legislativa accanto al Parlamento europeo i membri della Convenzione e i parlamentari europei naturalmente in primis non hanno voluto che si doppiasse il ruolo legislativo che sembrava a loro ma anche a molti dei governi nazionali dovesse restare esclusivamente in mano al Parlamento europeo a questo si aggiunge il fatto che in alcuni stati c'è un controllo parlamentare più stretto nei paesi scandinavi in Inghilterra c'è la possibilità per i parlamenti nazionali di controllare l'attività dell'organo esecutivo del governo nei negoziati europei e quindi c'è la possibilità anche di dare un mandato imperativo ai rappresentanti del governo nazionale quando negoziano a Brustel questi stati erano meno interessati a avere una seconda camera legislativa che rappresentasse i parlamenti nazionali per questo si è confinato si è ridotto questa implicazione dei parlamenti nazionali e eventualmente regionali nel processo legislativo al cosiddetto rispetto del principio di sussidiarietà che cos'è il principio di sussidiarietà è un principio che regola l'esercizio delle competenze cioè nei settori in cui l'Unione Europea ha una competenza concorrente a quella degli stati evidentemente non in quella in cui la competenza europea è esclusiva perché se solo l'Unione Europea può fare una legge i parlamenti nazionali per ipotesi non possono fare una legge nazionale è escluso a priori né nei settori in cui non c'è una competenza legislativa europea vale il principio inverso quindi solo nei settori che sono enumerati nell'articolo 4 del trattato mercato interno politica sociale la coesione economica sociale territoriale ambiente consumatori trasporti reti transeuropea energia in questi settori c'è la possibilità che sia l'Unione Europea sia i parlamenti nazionali possono adottare una legge se però c'è una la legge europea precede un'eventuale legge nazionale è chiaro che lo Stato nazionale in virtù del primato del diritto europeo non può più adottare una legge nello stesso settore che è già stato regolato da una legge europea quindi in questo momento nel momento in cui le istituzioni europee e quindi la commissione che è l'organo che ha il diritto quasi esclusivo di iniziativa legislativa propone una legge europea bisogna sapere in quel momento se la commissione europea la proposta della commissione rispetta il principio di sussiderità cioè se la legge europea ha un valore aggiunto ha un'efficacia maggiore fare una legge a livello europeo o piuttosto lasciarla a livello dei singoli stati perché è stato introdotto e è stato dato questo controllo della sussiderità perché c'è una permettetemi di dire una certa complicità tra le istituzioni europee tra la commissione che propone il Parlamento europeo e il Consiglio per adottare una legge europea le statistiche ci dicono che il 95% almeno delle proposte della commissione sono adottate dal Consiglio e dal Parlamento magari con qualche emendamento spesso anche con emendamenti importanti ma una legge europea proposta diventa legge europea nel 95% del decreto e quindi a quel momento non si può dare alle stesse istituzioni che sono che hanno questa complicità legislativa il diritto di il potere di verificare se quello che fanno è conforme o no al principio di sussiderità bisogna darlo a un organo esterno e quindi si è pensato di darlo a giusto titolo ai Parlamenti nazionali però il meccanismo che è stato varato con il trattato prima con la Costituzione europea e poi con il trattato di Lisbona che lo ha ripreso praticamente senza cambiamenti è un sistema complesso e con dei criteri che ne permettono come abbiamo visto in pratica in questi primi nove anni di applicazione di difficile applicazione prima perché quando i Parlamenti nazionali hanno otto settimane per esprimere il parere un parere che deve essere giustificato che deve avere una motivazione per dire che una proposta della Commissione non rispetta il principio di sussiderità prima occorre che i Parlamenti nazionali e eventualmente quelli regionali abbiano il tempo di preparare una presa di posizione che per poter avere una validità nel meccanismo di sanzione previsto dal protocollo numero due legato al Trattato di Sbona deve raggiungere un quorum di un terzo delle Camere nazionali che sono 19 oggi su 56 e che obbligherebbe la Commissione a rivedere il suo progetto senza però obbligarla a ritirarlo o a modificarlo la Commissione tiene conto prende in considerazione il parere espresso da un terzo delle Camere nazionali però può decidere di mantenere la sua proposta senza delle modifiche per poter obbligare la Commissione e soprattutto il legislatore europeo a tenere conto del parere dei Parlamenti nazionali occorre che il quorum dei pareri motivati pensate che i pareri motivati devono essere avere un contenuto praticamente identico o comunque simile per poter obbligare non è che un Parlamento nazionale fa una critica all'articolo 5 del testo e un altro Parlamento critica all'articolo 7 no occorre che tutti tutti un terzo o la metà nel caso del cosiddetto cartellino arancione il primo cartellino giallo dice alla Commissione tu hai commesso un errore però non vieni sanzionata non vieni esclusa espulsa dal campo e quindi puoi continuare la tua procedura legislativa mentre nel secondo caso se effettivamente una metà di Camere nazionali criticano il progetto della Commissione a titolo della sussidiarità del no rispetto del principio di sussidiarità il legislatore europeo può bloccare l'adozione della legge europea guardate bene che per bloccarlo occorre il 55% dei rappresentanti degli stati insieme al Consiglio più la maggioranza assoluta insieme al Parlamento europeo quando si sa che una legge europea può essere bloccata già quando non raggiunge la maggioranza dei voti insieme al Consiglio e lì basta molto meno del 55% si vede che questo criterio è quasi artificioso tanto è vero che non è stato mai raggiunto perché è già difficile raggiungere una uniformità di pareri di metà dei Parlamenti nazionali metà delle Camere sullo stesso che siano d'accordo senza che ci sia un organo amministrativo che prepara e che si potrebbe immaginare che i Parlamenti nazionali si dotino di un segretariato che appena la Commissione invia il testo avendo 8 settimane a disposizione elaborano il contenuto di una critica e poi lo fanno adottare dai Parlamenti sarebbe già un modo di dare una effettività a questo controllo di sussiderità ma se ogni Parlamento senza coordinamento fra di loro decide per conto suo è difficilissimo raggiungere il quorum di 50 metà dei Parlamenti nazionali e questo è provato dal fatto che questo criterio non è mai raggiunto non è stato mai questo quorum non è stato mai raggiunto a questo si aggiunge perché anche se venisse raggiunto occorrebbe appunto il 55% dei voti insieme al Consiglio e la metà dei deputati europei per bloccare il testo del legislatore naturalmente nei casi in cui la Commissione decidesse di mantenerlo cosa che come vedremo è successo nei casi in due casi su tre in cui è stato avviato non il cartellino arancione che non è stato mai raggiunto ma il cartellino giallo di un terzo dei Parlamenti nazionali ci sono stati tre casi in cui i Parlamenti nazionali hanno raggiunto un terzo per un terzo dei loro voti 19 su 56 perché ogni Camera dispone di due ogni Stato dispone di due voti quindi ne occorrono 19 su 56 nei tre casi in cui si è raggiunto questo quorum nel primo caso è stato il regolamento cosiddetto Monti il regolamento di Mario Monti quando Monti era commissario europeo aveva proposto un regolamento sull'argomento della libera prestazione dei servizi c'è stato un conflitto che è stato anche sanzionato con la sentenza della Corte tra il diritto di sciopero che è un diritto fondamentale previsto dalla Carta dei diritti fondamentali e il principio della libera prestazione dei servizi che sono entrati in conflitto perché dove alcune associazioni hanno esercitato il diritto di sciopero dei lavoratori non hanno potuto esercitare il diritto previsto dal trattato a prestare un servizio in un altro Stato membro quindi la Corte di Giustizia ha emanato due sentenze in cui ha cercato di bilanciare il conflitto tra due principi tra due diritti previsti dal trattato la Commissione Europea ha cercato dopo queste due sentenze di elaborare una proposta legislativa per cercare appunto di equiparare e contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con quello alla libera prestazione dei servizi il Parlamento dei nazionali hanno raggiunto il quorum di 17 di 19 scusate voti su 56 hanno chiesto alla Commissione di ritirare questa proposta nel parere espresso da questi da un terzo dei Parlamenti nazionali c'è un articolo che vi posso fare avere di due ricercatori all'Istituto Universitario Europeo a Firenze che hanno dimostrato un articolo che si chiama Yellow Card But Not Full cioè cartellino giallo ma non c'era il fallo perché i Parlamenti nazionali hanno criticato la base giuridica della proposta e il contenuto della proposta ma non il principio di sussidiarietà pertanto è vero che c'era stato due sentenze della Corte Europea quindi è chiaramente una competenza dell'Unione Europea di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero rispetto alla libera prestazione di servizi ma i Parlamenti nazionali hanno contestato la base giuridica della proposta e il contenuto stesso della proposta la Commissione Europea in questo caso ha ritirato la sua proposta ma non tanto per in applicazione del meccanismo di early warning ma perché la proposta era basata sull'articolo 352 che vuole l'accordo unanime del Consiglio e non c'era nessuna possibilità di ottenere questa unanimità insieme al Consiglio per cui la Commissione ha ritirato questa proposta negli altri due casi che sono succeduti di cartellino giallo il secondo è stato la proposta della Commissione per creare un procuratore europeo il procuratore europeo che deve agire per la prevenzione delle frodi al bilancio europeo e anche per altri casi è una disposizione del trattato e il trattato richiede l'elaborazione la creazione di un procuratore europeo quindi la Commissione non ha fatto che tradurre in atto legislativo una disposizione del trattato quando ha avuto questa critica da parte dei Parlamenti nazionali la risposta della Commissione è stata ma c'è un articolo del trattato è come se la Commissione facesse una proposta che so per applicare i prezzi agricoli che sono anche previsti dal trattato e gli si dicesse no non devi fare una proposta per fissare i prezzi agricoli è un obbligo previsto dal trattato un obbligo nel senso che la Commissione del trattato ha previsto la creazione di questo nuovo organismo e la Commissione ha messo in pratica la disposizione del trattato nel terzo caso è un problema simile la Commissione ha proposto la revisione della direttiva sul distacco dei laboratori cioè una direttiva che disciplina il distacco dei laboratori in un altro Stato membro per evitare che ci siano fenomeni di dumping un'impresa manda dei lavoratori in un altro Stato membro e cerca di retribuirli al diciamo con un salario dello Stato di provenienza la direttiva mira a equiparare queste situazioni per evitare appunto che le imprese si mettano a distaccare lavoratori partendo da Stati in cui ci sono livelli retributivi più bassi e la Commissione ha risposto ma io sto proponendo la revisione di una direttiva esistente se la direttiva esiste devo poterla poter apportare delle modifiche non posso dire che è contraria alla sussidiarietà perché allora sarebbe stata contraria alla sussidiarietà la direttiva esistente se c'è una direttiva anche una modifica di una direttiva deve essere deve poter essere elaborata quindi in pratica su il cosiddetto cartellino arancione non è stato mai applicato perché non si è mai raggiunto il cuore il cartellino giallo è stato applicato tre volte ma in realtà la Commissione non ha mai agito per dare seguito alle richieste dei Parlamenti nazionali solo nel primo caso ha ritirato il testo ma per ragioni che non avevano non erano direttamente legati al rispetto della sussidiarietà questo che cosa vuol dire uno che il trattato di Lisbona ha introdotto dei criteri troppo stretti quasi direi quasi impraticabili e di fatti alcuni Parlamenti chiedono di rivedere i criteri del trattato di Lisbona solo che per rivederli oppure una modifica dei trattati che come sappiamo è molto difficile per altre ragioni l'altra che i Parlamenti nazionali dispongono di otto settimane è vero che le otto settimane partono dall'ultima versione linguistica quindi se la versione in italiano non viene mandata subito ma viene mandata due o tre settimane dopo se i Parlamenti nazionali leggono anche il francese o l'inglese possono già iniziare a prepararsi sul testo inglese e francese e le otto settimane diventano dieci undici ma non sono sufficienti a meno che non ci sia un organo come ho detto amministrativo che prepara le risposte è così che funziona a livello europeo per fare un coordinamento tra enti di vari stati occorre un segretariato dei funzionari che non aspettano di avere un input da parte di tutti i diciannove e le diciannove camere ma possano già preparare un testo perché sanno credono di sapere che questo testo dà adito a critiche dal punto di vista del principio di sussiderità quindi vi dicevo questa concessione fatta questa implicazione dei parlamenti nazionali e regionali che devo dire ma ve ne parlerà certamente il dottore Sposito dato che io non mi soffermo sugli aspetti interni mentre nel trattato di Lisbona c'è una dichiarazione allegata al protocollo sulla sussiderità del governo belga che ha detto per noi belgio per lo Stato belga parlamenti regionali o nazionali sono equiparati quindi che un parere venga dal Parlamento nazionale o da uno delle assemblee regionali sono la stessa cosa solo il belgio ha fatto questa dichiarazione gli altri stati questo conferma l'aspetto di centralizzazione degli stati nazionali anche in quelli che sono a struttura più 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 decentrata più federale in Spagna per esempio la Spagna non si è sognata minimamente di fare una dichiarazione in cui l'assemblea a Catalogna veniva equiparata al Parlamento nazionale pur essendo uno Stato a struttura decentrale federale quindi a parte il belgio gli stati non hanno cercato di riparare le assemblee regionali a quelle nazionali e poi anche lì c'è a maggior ragione ci sarebbe bisogno di un coordinamento perché coordinare già 28 27 parlamenti nazionali è già difficile coordinare 250 entità regionali nei 27 stati sarebbe praticamente impossibile e quindi occorrerebbe anche lì dei meccanismi di coordinamento interno questo per dirvi che quindi questo sistema è stato concepito per favorire la partecipazione delle assemblee legislative che avevano perduto le loro competenze una parte delle loro competenze legislative ma ha avuto scarsi effetti e questi scarsi effetti secondo me si aggravano nel tempo per quale ragione perché mentre la Commissione Europea negli anni precedenti ha trattato di Sboni a inviare soprattutto alla prima della fine del secolo scorso presentava ogni anno dalle 350 alle 400 leggi proposte di leggi europee oggi l'anno scorso la Commissione ha presentato 23 iniziative legislative quindi si è ridotto il il procedimento legislativo europeo che era diventato anche probabilmente eccessivo oggi ci sono 13.500 leggi europee a cui ogni anno se ne aggiungono un centinaio diciamo tra atti di gestione e atti legislativi e le propri ci sono 200 atti delegati e 1800 decreti esecutivi atti esecutivi quindi questa ammontare della legge europea cresce ogni anno della normativa europea cresce ogni anno ma cresce in modo molto più che tutto non solo ma la Commissione ha introdotto dei meccanisti tra cui la cosiddetta analisi di impatto che deve valutare anche l'impatto regionale che era un'innovazione anche questa piuttosto straordinaria perché per valutare l'impatto regionale già la Commissione i servizi della Commissione malgrado il numero di funzionari esistenti hanno difficoltà a valutare le legislazioni esistenti nei 28 stati membri ma valutare le legislazioni esistenti a livello regionale in tutta l'Unione Europea sarebbe un'impresa improbata a meno che le regioni stesse il comitato delle regioni non fornisse degli criteri per poter valutare l'impatto regionale di una misura come fa la Commissione a valutare l'impatto regionale di una legislazione in Umbria se non ha degli strumenti che gli vengono forniti dalla regione stessa o dal comitato delle regioni quindi vedete che questa analisi di impatto ha già ridotto il problema perché la Commissione prima di fare una proposta deve poter dire questa proposta è necessaria è opportuna a livello europeo quindi deve dire rispetto alla sussidiarietà e lì c'è l'analisi di impatto è esaminata da un un'organo che si chiama Impact Assessment Board che è composto da tre funzionali della Commissione tre esperti indipendenti esterni con un presidente che dipende dal presidente della Commissione direttamente e non dai servizi che elaborano il testo legislativo che può dire che questa analisi di impatto è fatta male non rispetta le linee direttive che la Commissione ha adottato e ha pubblicato alla gazzetta ufficiale per cui va rifatto e questo è già un freno all'attività legislativa se la Commissione non fornisce un Impact Assessment un'analisi di impatto economica sociale e ambientale sufficiente la proposta non può essere adottata questo anche ha contribuito a ridurre il numero delle attività delle azioni legislative della Commissione a questo appunto si è giunta la diminuzione delle proposte legislative l'anno scorso la Commissione ha adottato ha messo ha creato una task force sul rispetto del principio di sussidiarità in cui partecipano tre rappresentanti dei parlamenti nazionali tre rappresentanti del Comitato delle Regioni che quindi anche deve fare un rapporto su come far funzionare meglio il procedimento legislativo e eventualmente proporre delle modifiche ai trattati per poter dare ai parlamenti nazionali un intervento più efficace di quello che abbiamo fino ad oggi e tutta questa serie di meccanismi ha come si dice ha un impatto sull'importanza e la qualità del lavoro legislativo non so non ho credo del tempo di esaminarvi di darvi alcuni elementi recenti di quello che è stato fatto l'anno scorso in cui c'è un numero di i pareri nazionali dati in base al protocollo sulla sussidiarietà sono stati 52 l'anno scorso con un totale di 576 pareri dei parlamenti nazionali fatti al titolo del dialogo che il presidente Barroso aveva iniziato autonomamente nel 2006 proprio perché il protocollo si riferisce solo alla sussidiarietà e quindi il meccanismo sanzionatorio si riferisce solo al rispetto della sussidiarietà la commissione preseduta da Barroso propose ai parlamenti nazionali di formulare i pareri anche senza motivazione sulla anche sul contenuto della proposta o sulla proporzionalità cosa che i parlamenti nazionali hanno sfruttato maggiormente ma che hanno poca influenza pratica perché da quanto mi si dice dagli attuali funzionari che lavorano a Procell solo in alcuni rari casi la commissione ha portato delle modifiche alla sua proposta in funzione dei pareri sul contenuto della proposta e non sulla sussidiarietà quindi anche questo dialogo è utile ma non è come si dice non ha un'efficacia fondamentale la commissione anche bisogna dire e concludo su questo che a livello regionale a parte appunto il Belgio che ha equiparato l'attività di controllo di partecipazione dei parlamenti regionali a quello nazionale gli stati che hanno regioni con poteri legislativi utilizzano molto poco questa possibilità in Italia pare dalle statistiche che è la regione Emilia-Romagna che ha inviato l'anno scorso una decina di dei pareri a titolo del dialogo con la commissione europea altre regioni lo utilizzano molto meno mentre invece per quanto riguarda i parlamenti nazionali le due camere italiane sono le più attive in Europa tra senato e camera dei deputati l'anno scorso ci sono stati 101 sono stati i pareri inviati quasi tutti del senato più del senato sì il senato 56 la camera 45 mi pare dalle statistiche e dicevo le regioni che invece utilizzano maggiormente sono quelle che spiegava il professor D'Atena sono quelle che hanno sono state alla base della creazione del comitato delle regioni i lender della Germania e le regioni austriache sono quelle che utilizzano maggiormente questa facoltà di dialogare direttamente con i servizi della comissima io mi fermerei qui e lascerei al dottore Sposito la parte più interna grazie bene allora riprendiamo i nostri lavori mi trovo a sostituire il presidente Campiani saluto tutti ringrazio ancora i relatori completiamo la mattinata con la relazione del dottor Antonio Esposito capo della segreteria istituzionale del presidente della camera dei deputati che ci parla dell'intervento del Parlamento nella formazione e nell'attuazione delle regole europee di raccordo con le regioni a lei la parola la ringrazio molto e volevo ringraziare sinceramente in modo non cerimoniale o rituale il consiglio regionale l'assemblea regionale dell'Umbria e tutti coloro che sono stati coinvolti nella organizzazione di questa iniziativa permettendomi di ricordare anche il particolare legale personale che ho verso questa regione e verso l'istituzione regione Umbria in quanto ho qui compiuto i miei studi di specializzazione post laurea presso il corso SEU che era cofinanziato proprio dalla regione Umbria quindi perdonate la riflessione personale ma è sempre un momento di grande emozione e riconoscenza tornare qui e articolerei la mia relazione essenzialmente in tre grandi capitoli il primo che traendo le somme di quanto hanno magistralmente detto il professor Datena ed il professor Ponzano fa il punto su come il Parlamento italiano e anche gli altri parlamenti nazionali utilizzano i tre grandi canali di intervento nella formazione della normativa europea che l'attuale sistema costituzionale europeo prefigura il secondo capitolo si concentra essenzialmente sull'interazione tra Parlamento italiano e assemblee regionali e assemblee legislative regionali italiane nella fase di formazione della normativa e delle politiche europee e l'ultimo capitolo se così vogliamo chiamarlo sarà dedicato ad alcune conclusioni e proposte che formulerò ovviamente a titolo personale come tutto quello che naturalmente dirò oggi dalle relazioni del professor Datena e del professor Ponzano è messo con chiarezza come esistano attualmente tre grandi canali di intervento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo nel ciclo decisionale europeo il primo è quello tradizionale la funzione di indirizzo e controllo che ciascun Parlamento esercita su rispettivo governo che è chiamato a partecipare alle sedi decisionali europee primariamente al Consiglio ma anche come sappiamo al Consiglio europeo che non è una sede decisionale in senso stretto ma tuttavia di fatto è l'organo di indirizzo politico e per certi aspetti paralegislativo dell'Unione il secondo canale è costituito da quegli strumenti di intervento diretto dei parlamenti nazionali nella formazione della normativa europea che ha illustrato il professor Ponzano per un verso il controllo di sussidiarietà espressamente disciplinato dall'articolo 12 dal protocollo numero 2 allegato al trattato di Lisbona dall'articolo 12 trattato sull'Unione europea e dal dialogo politico la cosiddetta iniziativa Barroso lanciata nel 2006 il terzo e ultimo canale complementare ai primi due è la cooperazione interparlamentare la cooperazione tra parlamenti come vedrete è molto importante analizzare ciascuno di questi canali e le interazioni tra questi canali perché anche i rapporti tra Parlamento nazionale e assemblee regionali si innestano in questa grande suddivisione delle forme di intervento del Parlamento a livello europeo vorrei ripercorrere in modo l'hanno già fatto i ben più autorevoli relatori che mi hanno preceduto ma volevo per chiarezza ripercorrere in modo molto sintetico quali sono le basi giuridiche dei tre canali di intervento del Parlamento che ho appena richiamato e soprattutto fare un'operazione mi perdonerà il professor Datena di ponderazione di queste basi giuridiche mi perdonerà perché è un po' singolare sotto il profilo costituzionale il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea che purtroppo mi permetto di dire una buona parte della dottrina che in Italia si occupi di questi temi tende completamente ad obliterare entusiasmata dai poteri di intervento diretto e dall'articolo 12 è in realtà l'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea l'articolo 10 dice infatti due cose importantissime al paragrafo 2 dopo aver affermato al paragrafo 1 che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa che cosa dice? dice che i cittadini europei sono rappresentati a livello di un'Unione direttamente nel Parlamento europeo e aggiunge però che gli stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato e di Governo e nel Consiglio dei Ministri dai rispettivi governi a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini in altre parole questo articolo chiarisce in modo netto e chiaro che esistono due canali di rappresentanza che legittimano democraticamente quanto meno per quanto riguarda l'input l'Unione europea che sono quello diretto Parlamento europeo e quello indiretto cioè il controllo democratico che ciascun Parlamento nazionale deve esercitare nei confronti del rispettivo governo sembra un'affermazione scontata o banale ma in realtà sulla scorta di quanto dicevano i due autorevoli relatori che mi hanno preceduto questo articolo non fa altro che dire quanto dicevamo in precedenza sulla natura dell'Unione sul sistema costituzionale multilivello e composito aggiungo io dell'Unione europea e sul ruolo che in questo sistema devono esercitare i parlamenti nazionali la funzione primaria dei parlamenti nazionali è quella di indirizzare e controllare l'attività dei rispettivi governi è banalmente questa tornando anche in questo caso a quanto hanno già detto i miei relatori c'è un'altra disposizione spesso obliterata dalla dottrina non solo italiana ma anche europea codificata nel preambolo del protocollo numero uno allegato al trattato di Lisbona quello che concerne proprio il ruolo dei parlamenti nazionali che cosa si dice nel preambolo che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi esercitano la funzione che abbiamo appena richiamato relativamente all'attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno stato membro il principio di autonomia istituzionale già declinato nell'articolo 4 del trattato dell'Unione europea viene riaffermato con riferimento all'esercizio della funzione e controllo delle funzioni di esercizio e controllo e alla luce a mio avviso di questi articoli di queste disposizioni che ho richiamato che vanno letti gli altri canali la seconda grande categoria di intervento del Parlamento nella formazione del diritto e delle politiche europee quello che io ho chiamato canale di intervento diretto il professor Ponzano ha ampiamente illustrato l'articolo 12 del trattato sull'Unione europea il quale prevede che i parlamenti nazionali contribuiscono al buon funzionamento dell'Unione europea contribuiscono al buon funzionamento dell'Unione europea attraverso una serie di poteri di intervento diretto e una serie di diritti di informazione tra cui il controllo di sussidiarietà è evidente e inoltre menziona tra gli strumenti di intervento dei parlamenti nella formazione della normativa europea la cooperazione interparlamentare quello che io ho chiamato terzo canale e a mio avviso è evidentissimo dalla lettura in combinato disposto di questi principi e disposizioni che il ruolo primario del Parlamento nella formazione della normativa europea e anzi aggiungo io di tutte le assemblee legislative incluse quelle regionali nella formazione della normativa europea non è quello di interagire direttamente con le istituzioni europee provando ad alterare la forma di governo peraltro di quasi tutti i paesi dell'Unione ma è l'indirizzo e il controllo sul rispettivo governo i poteri di intervento diretto inclusa la tanto decantata sussidiarietà sono dei canali ancillari e complementari che non possono sostituire o alterare il primo canale di intervento la funzione di indirizzo e controllo ed analogamente anche la cooperazione interparlamentare non può essere intesa come un canale incoerente con questa costruzione chiaramente alla luce di quanto ho detto ogni Stato membro conferisce ai suoi parlamenti nazionali poteri di indirizzo e controllo modulati in modo differenziato esistono come sapete come alcuni di voi sicuramente sanno come sanno gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto nella dottrina ma anche nell'ambito dei praticoni dei funzionari parlamentari che si occupano di questi temi esiste una classificazione che individua tre diversi modelli di interazione tra Parlamento e Governo il sistema dei cosiddetti mandati negoziali che viene utilizzato nei paesi scandinavi il Mandate Rangement System in base ai quali il Governo deve ottenere un vero e proprio mandato dal rispettivo Parlamento prima di negoziare sui punti all'ordine del giorno di ciascuna riunione del Consiglio in Danimarca si arriva addirittura a configurare il mandato in termini talmente vincolanti che se nel corso di una riunione del Consiglio l'andamento del negoziato impone al rappresentante del Governo danese di discostarsi dalla posizione definita dal Parlamento il Ministro sente al telefono non il Presidente del Consiglio ma il Presidente della Commissione Affari Europei del Folketing il Folketing è del Parlamento danese per motivare le ragioni per cui è necessario discostarsi da questa posizione esistono poi altri sistemi invece cosiddetti document based cioè sistemi in cui non esiste un mandato negoziale conferito dal Parlamento al Governo su tutti i punti all'ordine del giorno del Consiglio ma su singoli atti proposte legislative o altri atti che è il sistema per esempio applicato con alcune modulazioni nel Regno Unito in Germania in Francia e questo sistema prevede l'adozione di atti di indirizzo con una forza e un valore giuridico che dipendono dall'assetto costituzionale ma anche politico di ciascun paese il Bundestag che viene considerato tra i grandi parlamenti quello più potente a quantomeno a partire dall'Isabon Urteil dalla sentenza sulla adesione della Germania al Trattato di Lisboa sulla ratifica del Trattato di Lisboa da parte della Germania del 30 giugno del 2009 e le leggi che hanno attuato quella sentenza adotta sorprendentemente pochissimi atti di indirizzo nei confronti del rispettivo governo perché semplicemente non c'è bisogno di codificare la posizione del Parlamento del Bundestag in particolare in termini formali ma i dibattiti svolti spesso a porte chiuse delle commissioni competenti sono sufficienti a registrare una convergenza tra la posizione della grande coalizione e quella delle Camere c'è da vedere una domanda se nel mutato assetto politico che si è creato in Germania in questa legislatura con delle forti divisioni anche dell'Unione ZDU ZSU reggeranno incideranno sul modo in cui attraverso cui il Bundestag eserce i propri poteri europei il modello italiano con l'entrata in vigore della legge 234 del 2012 la legge generale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e una serie di regole adottate non a livello di modifica regolamentare ma a livello di pronunce interpretative da Camera e Senato è diventato un modello a mio avviso misto perché c'è una disposizione anche in questo caso spesso del tutto inspiegabilmente sottovalutata nel dibattito istituzionale e scientifico e accademico l'articolo 7 della legge 234 del 2012 la quale stabilisce che il governo deve rappresentare nelle sedi decisionali europee in cui partecipa una posizione coerente con gli indirizzi definiti dal Parlamento e che può discostarsene dandone adeguata motivazione e è una disposizione la cui razio si rinviene naturalmente nella stessa logica della nostra Costituzione si può dire che per certi aspetti una interpretazione adeguata e moderna del rapporto tra Parlamento e Governo nella nostra Costituzione già impone al Governo di conformarsi agli indirizzi politici formulati dalle Camere Tanto più che ormai è stata abbandonata sia in Parlamento sia nel dibattito accademico la vecchia considerazione degli affari europei come affari esteri affari esteri che avrebbero in quanto tale sarebbero stati in quanto tale coperti da una riserva di potere governativo gli affari europei ormai non sono affari esteri hanno una loro autonomia ebbene però questo articolo 7 è molto importante perché pone in capo al Governo un onere di motivazione del disallineamento rispetto alle posizioni parlamentari che nei primissimi anni di applicazione della legge 234 non ha avuto una effettiva e concreta applicazione se non in pochi casi isolati nell'ambito della relazione consultiva annuale che il Governo presenta alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno sulla sua partecipazione dell'Unione Europea dell'anno precedente che dovrebbe riportare anche il modo in cui è stato dato seguito alle risoluzioni parlamentari da da due anni circa però il Governo sta trasmettendo al Parlamento delle relazioni che danno punto del seguito che esso dà agli atti di indirizzo adottati dal Parlamento su specifici progetti di atti di atti dell'Unione Europea che sono uno strumento per il Parlamento di verificare la coerenza della posizione rappresentata dal Governo rispetto alla posizione nazionale quello che mi preme evidenziare in questa sede è che l'importanza della funzione di indirizzo e controllo delle Camere del Parlamento italiano come degli altri Parlamenti nei confronti del Governo non sta soltanto e tanto nella affermazione della democraticità della legittimazione democratica dell'azione del Governo in materia europea ma nel caso italiano in termini concreti sta soprattutto nel fatto che gli oneri di informazione di rendiconto del Governo al Parlamento in materia europea sono il principale strumento per imporre alle amministrazioni ministeriali di fare il loro mestiere la legge 234 del 2012 è stata molto criticata quando è stata adottata e anche nel corso del suo iter parlamentare che ho avuto la fortuna di seguire direttamente ha subito parecchi rallentamenti perché è stata ritenuta eccessivamente onerosa nei confronti del Governo si impone se leggiamo gli articoli 4 e 6 in particolare al Governo di trasmettere di tutto alle Camere di elaborare relazioni note segnalare quali sono gli atti meritevoli di essere esaminati elaborare entro 20 giorni dalla trasmissione di ogni progetto legislativo una relazione tecnica che contiene la valutazione di impatto lo Stato le prospettive del negoziato l'impatto sull'interesse nazionale e così via si è detto che si imponeva in onore di una stratta affermazione della sovranità parlamentare un onere continuo sulle amministrazioni ministeriali che sarebbero state distolte così dal loro lavoro quotidiano in materia europea ed invece ed invece veloci dico per esperienza diretta immagino che molti altri tra voi potranno confermarlo quegli flussi informativi che peraltro non riguardano non vengono indirizzati solo alle camere ma anche alle assemblee regionali e alle regioni in generali sono il presidio più importante per garantire che il governo faccia quello che avrebbe dovuto indipendentemente dall'obbligo informativo verso il Parlamento fare sapete che il nostro paese sconta atavicamente un forse nessuno meglio che il professor Fonzano che l'ha visto da versante europeo un difetto gravissimo è sempre stato attivo presente anche autorevole quando si è trattato di dettare i grandi passaggi istituzionali dell'Unione Europea pensiamo soltanto all'atto unico europeo o allo stesso al lancio della conferenza intergovernativa che portò al trattato di Mastic vengono ormai considerati due capolavori della diplomazia e dei governi italiani superando in entrambi i casi soprattutto l'opposizione britannica ma siamo stati invece carenti nella partecipazione dei baidei nella formazione della posizione nazionale sul singolo progetto normativo e nella sua difesa coerente sono numerosi gli attori che vi possono già ricordo durante il corso SEU che ho fatto qui a Perugia nel ahimè lontanissimo 97-98 vent'anni fa molti dei nostri docenti funzionari ricordo il professor De Caterini che era funzionario europeo ci raccontavano episodi leggendari di carenza dell'Italia nel difendere la propria posizione nazionale episodi leggendari che poi sono alla base di vicende surreali come le potelatte ma ho visto poi concretamente di persona da quando lavoro alla Camera altri casi surreali negoziato sulla seconda direttiva sulle offerte pubbliche d'acquisto in cui il governo aveva due posizioni quella del ministro delle politiche comunitarie buttiglione che era vicino alla clausola di reciprocità tedesca quella del ministro dello sviluppo economico che credo fosse Scaiola all'epoca che aveva invece una non posizione quella di Banca d'Italia e Consob che erano anch'esse divise la Banca d'Italia contro la contendibilità c'era all'epoca il governatore Fazio e quindi contro un margine troppo contro regole troppo severe per le misure difensive la Consob invece favorevolissima la cosiddetta regola di passività la posizione italiana non esisteva semplicemente non esisteva e questo avveniva quando l'Italia anche nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea nel 2003 e si è ripetuto su tantissimi altri dossier il fatto che il Parlamento e come il Parlamento anche le assemblee regionali ed altri soggetti siano abbiano dei diritti di informazione quindi il governo abbia degli obblighi di informazione sia tenuto a dire in una fase precoce cosa intende che posizione intende rappresentare che valutazione ha fatto su quella proposta è lo strumento lo ripeto il presidio più importante a tutela della partecipazione efficace del sistema paese nella formazione della normativa europea la disposizione dell'articolo 6 paragrafo 4 se non è comma 4 della legge 234 del 2012 che impone al governo di trasmettere una relazione su ogni progetto di atto dell'Unione Europea è stata mutuata potrei dire rubber stamp copiata dalla analoga disposizione della legge sulla cooperazione tra il governo federale e il Bundestag adottata nel 2009 a sua volta che a sua volta recitiva un precedente accordo interistituzionale quella disposizione tedesca prevede un analogo obbligo del governo nei confronti del Bundestag del governo federale nei confronti del Bundestag a trasmettere una relazione entro 10 giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'Unione Europea al Bundestag sapete in media quest'obbligo in quanti giorni viene ottemperato 10 è il termine legislativo 48 ore e questo non perché il mito dell'efficienza tedesca faccia sì che un funzionario ministeriale tedesco sia più rapido di quello italiano ma banalmente perché il governo federale tedesco segue con tale sistematicità tempestività e diciamocelo abbondanza di risorse il processo decisionale europeo che la relazione è pronta prima ancora che il progetto di atto venga trasmesso e anzi in molti casi è pronta già quando non esiste ancora la proposta legislativa ma esistono le prime bozze che circolano nelle riunioni a livello amministrativo non a caso la rappresentanza permanente tedesca ha più del doppio dei funzionari di quella italiana e il Bundestag ha a Bruxelles un ufficio di mille metri quadri con sette funzionari di livello dirigenziale mi pare cinque segretari e sei funzionari dei gruppi mentre la Camera e il Senato hanno un funzionario un consigliere parlamentare ciascuno e così anche tanti altri parlamenti quindi ripeto l'indirizzo e controllo del Parlamento nei confronti del governo non è un omaggio astratto a principi costituzionali e al ruolo del Parlamento che è pure importante ma è anche praticamente lo strumento fondamentale per far funzionare la partecipazione del sistema paese al processo decisionale europeo e la legge 234 del 2012 ha peraltro inquadrato questa fondamentale esigenza in una logica di sistema è la prima legge che sviluppando principi che erano già parzialmente presenti nella legge 11 del 2005 concepisce la partecipazione italiana alla fase ascendente e discendente a quella di formazione e di attuazione come un continuum un ciclo continuo con il coinvolgimento dell'intero sistema paese altre disposizioni che non posso richiamare in questa sede come il rafforzamento del ruolo del CAI del Comitato Interministeriale degli Affari Europei ad esempio o le numerose disposizioni che concernono le assemblee regionali sia utisingule sia a livello di conferenza dei presidenti delle assemblee si pongono proprio nella logica di garantire una coerenza complessiva di tutti gli attori istituzionali italiani ai vari livelli di governo che concorrono a formare poi a rappresentare la posizione nazionale faccio un altro esempio perdonatemi se cedo gli esempi ma è il modo per dimostrare concretamente la fondatezza di quanto affermo la legge ha introdotto sempre all'articolo 6 l'obbligo del governo di trasmettere unitamente alle relazioni sui progetti di atti normativi alle camere e alle assemblee regionali una tabella di corrispondenza tra le disposizioni contenute nel progetto legislativo e le norme nazionali che dovrebbero essere modificate o che già sono conformi alla normativa europea le norme su cui impatta la normativa europea che cos'è questa tabella di corrispondenza se non il modo se fosse veramente sviluppata adeguatamente per preparare già nella fase in cui si negozia un progetto normativo europeo la disciplina di recepimento senza incorrere nei consueti affannosi problemi legati all'andamento della fase discendente quindi c'è una logica di sistema fondamentale che è coerente lo ribadisco con quelle disposizioni dei trattati in particolare con l'articolo 10 i quali ribadiscono che la funzione primaria dei parlamenti è quella di indirizzare e controllare i propri governi non in omaggio soltanto alla legittimazione democratica ma anche al buon funzionamento del sistema paese e quindi dell'unione europea nel suo complesso come si pone nel nostro ordinamento e negli altri ordinamenti a fronte di questo primo canale di intervento la funzione di indirizzo e controllo la sussidiarietà e il dialogo politico prima di dare una risposta faccio un passo indietro vi dico che nel dibattito istituzionale nelle singole assemblee nei singoli paesi e tra i parlamenti il ruolo della funzione di indirizzo e controllo rispetto agli altri canali di intervento dei parlamenti in materia europea ha generato e continua a generare quattro grandi antinomie nel senso che i parlamenti si interlegano al loro interno e tra loro su quattro interrogativi di fondo il primo è privilegiare continuare a privilegiare la funzione di indirizzo e controllo o immaginare di poter aggirare il raccordo con il governo e potenziare l'intervento diretto nel processo decisionale attraverso la commissione europea e quindi il dialogo politico e la sussidiarietà c'è tutto un filone di paesi soprattutto paesi molto deboli o che hanno perso l'efficacia della funzione di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi governi che tendono a teorizzare una fantomatica e accountability della commissione europea direttamente verso i parlamenti nazionali e questa fantomatica accountability andrebbe costruita rafforzando appunto il potere di intervento diretto e come dirò tra poco collettivizzando il ruolo dei parlamenti nazionali per fare massa critica in parte queste affermazioni che sono di rottura rispetto all'assetto costituzionale europeo e in molti casi come nel nostro anche interno trovano fondamento in alcuni andamenti che il professor Conzano ben conosce alcuni sviluppi delle procedure decisionali europee in particolare il ricorso ormai sistematico ai triloghi e all'accelerazione dell'accelerazione all'aumento degli atti approvati in prima lettura o nella seconda con la cosiddetta seconda lettura veloce cioè a livello europeo ormai si ricorre sistematicamente per garantire il raggiungimento dell'accordo tra Parlamento e Consiglio e in seno al Consiglio tra gli stati membri a sedi come i triloghi in cui rappresentanti della Presidenza del Consiglio della Commissione e della Commissione competente del Parlamento europeo ciascuno agendo sulla base di un mandato non mi soffermo su questi aspetti negozia un testo che poi viene molto spesso quasi blindato nel successivo esame parlamentare comprimendo peraltro anche la possibilità dello stesso Parlamento europeo di intervenire e dei governi in seno al Consiglio allora molti Parlamenti vedendo a causa dei triloghi che tra l'altro riducono anche i margini di trasparenza perché anche la nostra legislazione prevede che la rappresentanza permanente debba riferire alle Camere sistematicamente sull'andamento dei triloghi ma vi dico che per quanto uno possa combattere questa battaglia è difficilissimo avere in tempo reale e studiarsi soprattutto tutte le carte allora alcuni Parlamenti per aggirare l'ostacolo dicono bene non riesco più a controllare il mio governo perché il mio governo quando gli do l'indirizzo mi dice ma è chiuso già il compromesso intervengo sulla Commissione europea c'è questa tentazione fra poco vedremo se è fondata e se è praticabile una seconda antinomia è sulla funzione antagonistica o cooperativa dei Parlamenti nazionali nei confronti delle istituzioni europee c'è un vasto novero di Parlamenti che sia pure con tutte le mediazioni linguistiche possibili sostiene chiaramente che il ruolo dei Parlamenti nazionali è quello di salvaguardare le competenze nazionali nei confronti dell'invasività dell'intervento legislativo europeo utilizzando la sussidiarietà o ogni altro strumento utile per bloccare l'invadenza della normativa europea sulla competenza nazionale e quindi sulle competenze legislative parlamentari altri Parlamenti tra cui storicamente quello italiano sostengono invece che i Parlamenti nazionali devono contribuire al merito delle scelte politiche europee non bloccandole ma concorrendo a profilare la normativa al policy shaping si dice se non sbaglio e quindi contribuire attivamente non passivamente una terza grande antinomia riguarda i rapporti con il Parlamento europeo secondo alcuni Parlamenti nazionali il Parlamento europeo è il peggior nemico perché il Parlamento europeo tende indabilmente ad ampliare il raggio dell'azione europea a utilizzare tutte le potenzialità previste dai trattati per ampliare l'azione europea e quindi a comprimere le competenze nazionali altri Parlamenti tra cui almeno finora quello italiano sostengono invece che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali hanno un ruolo complementare e anche sulla scorta della lettera del trattato cercano sempre di evitare forzature contro il Parlamento europeo infine l'ultima antinomia è evidente è su ruolo che tra loro possono avere i Parlamenti nazionali di solito i fautori di una funzione antagonistica dei Parlamenti nazionali e del rafforzamento del controllo di sussidiarietà sostengono che i Parlamenti nazionali dovrebbero coalizzarsi tra loro creare una sorta di sindacato dei Parlamenti nazionali per definire posizioni comuni contro i nemici Commissione europea e Parlamento europeo il Parlamento italiano ed altri ritengono invece che i Parlamenti debbono collaborare tra loro essenzialmente per ridurre le asimmetrie informative migliorare quindi lo scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile ad esercitare individualmente i propri poteri sia di indirizzo e controllo che di intervento diretto in altre parole la cooperazione interparlamentale deve fornire elementi per l'esercizio del potere di ciascun Parlamento ma non coordinare la posizione per questo il Parlamento italiano come vi ho detto ha una posizione molto chiara e ha sempre contrastato il tentativo di costituire quello che il professor Ponzano ponendo una giusta domanda chiamava segretariato che elabora posizioni per esempio sulla sussidiarietà che poi i Parlamenti dovrebbero ricepire nei loro ordinamenti sarebbe dal nostro punto di vista molto pericoloso e tra l'altro contrario a quelle disposizioni sull'autonomia istituzionale di ciascun Parlamento che ho richiamato in precedenza menori di queste quattro antinomie il Parlamento italiano ed altri Parlamenti hanno ciascuno interpretato il secondo grande canale di intervento quel raccordo diretto con la Commissione Europea in modo differenziato le due Camere italiane hanno deciso di considerare il dialogo politico con la Commissione Europea quella procedura a Barroso che richiamava il Professor Ponzano cioè la trasmissione di proprie posizioni risoluzioni mozioni ogni altra forma di osservazione alla Commissione che poi risponde dentro di solito tre mesi come un canale un sottoprodotto dell'indirizzo e controllo che cosa intendo dire che non esiste alla Camera o al Senato un'autonoma procedura per dialogare con la Commissione Europea separata dalla procedura prevista per l'espressione di atti di indirizzo e controllo al Governo tutto quello che Camera e Senato approvano con riferimento a atti o questioni europee può essere se l'organo parlamentare competente lo decide trasmesso anche alla Commissione Europea e dal 2009 al Parlamento Europeo che ha chiesto di essere destinatario ai fini del dialogo politico in altre parole il dialogo politico coincide quello che si dice alle istituzioni europee coincide con quello che si dice al Governo per una ragione che ho già enunciato in precedenza per evitare la divaricazione nel processo decisionale europeo tra la posizione del Governo e la posizione del Parlamento sono consapevole che in dottrina ma persino in Parlamento c'è chi sostiene che in questo modo si sia verificato il processo di autocastrazione perdonatemi il termine cioè il Parlamento abbia rinunciato a delle potenzialità per diventare autonomo rispetto al Governo si dice addirittura che il dialogo politico sia una convenzione costituzionale europea che quindi assurgerete a rango di fonte accanto ai trattati che avrebbe consentito persino delle alterazioni benefiche nell'ottica parlamentare della forma di governo non voglio scimentarmi con le importanti questioni teoriche su cui il professor Datena e altri possono sicuramente più autorevolmente di me riflettere so soltanto che sarebbe una follia quella di consentire una divaricazione pressoché sistematica tra la posizione del Parlamento e la posizione del Governo perché significherebbe indebolire semplicemente la posizione nazionale andare a dire a livello di parlamenti nazionali o anche regionali cose diverse rispetto a quella che è la posizione del Governo significa il modo migliore per indebolire ulteriormente la posizione negoziale del Paese quindi le scelte procedurali che sono state fatte da Camera e Senato servono proprio ad evitare questa divaricazione quindi non esistono autonome procedure con riferimento all'altro grande canale di intervento diretto la sussidiarietà che per definizione è un potere autonomo di ciascun Parlamento nazionale Camera e Senato avevano adottato finora fino alla recente riforma regolamentale del Senato entrata in vigore dall'inizio di questa legislatura modelli completamente diversi alla Camera dove per tutte le ragioni che vi ho detto sinora l'obiettivo primario era quello di depotenziare il controllo di sussidiarietà in quanto strumento antagonistico e di potenziale di varicazione tra Parlamento e Governo si è deciso di attribuire il potere di emanare un parere motivato ai fini del controllo di sussidiarietà alla Commissione Politica dell'Unione Europea con possibilità per il Governo per un quinto dei componenti della Commissione o un decimo dei componenti della Camera di chiedere la remissione della parere in aula della questione in aula quindi l'aula teoricamente potrebbe sovvertire le pronunce della Commissione Politica dell'Unione Europea questa scelta ha inteso concentrare nella Commissione più lontana dagli interessi di settore la scelta sulla sussidiarietà per evitare che la sussidiarietà divenisse il pretesto per il professor Ponzano l'ha ampiamente ricordato far valere dei rilievi di merito attraverso un potere più forte in apparenza godificato dai trattati del resto quello che ha detto il professor Ponzano lo dimostra e lo dimostra come fra poco dirò l'esperienza del Senato inoltre la scelta di individuare un'unica Commissione competente ha risposto all'obiettivo di far maturare dei parametri e dei criteri una giurisprudenza coerente nel tempo evitando che ove fossero state investite le altre 13 Commissioni permanenti della Camera ciascuna maturasse i criteri completamente autonomi l'una dall'altra per emettere pareri motivati al Senato invece è stata fatta un'altra scelta quella della Camera perdonatemi lo sottolineo è stata fatta con due pareri dell'aggiunta del regolamento adottati nel luglio del 2009 e poi nel perdonatemi nell'ottobre del 2009 nel luglio del 2010 a cavallo dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona al Senato con una lettera circolare del Presidente del Senato si è deciso invece di far operare il controllo di sussidiarietà dalle stesse commissioni di merito quando esercitano la funzione di indirizzo e controllo nei confronti del governo in altre parole le commissioni del Senato possono esprimersi contestualmente sia sul merito sia nella sussidiarietà generalmente su quello che poi è stato il modello seguito da parecchie assemblee regionali le risoluzioni delle commissioni del Senato contengono una parte relativa al merito una relativa alla sussidiarietà molto spesso alla proporzionalità e alla base giuridica e allo stesso tempo poi il tutto vale anche ai fini del dialogo politico con la commissione alla Camera invece abbiamo una procedura separata solo per il merito con un documento finale che viene approvato dalle commissioni di settore con il parere della commissione politica dell'Unione Europea e invece la procedura di sussidiarietà come ho detto incardinata solo in seno alla commissione politica dell'Unione Europea nella sostanza al Senato che cosa è successo? Questa procedura ha fatto sì che ciascuna commissione decidesse come e quando adottare un parere motivato e il primo parere motivato adottato dal Senato significativamente concerne una modesta proposta di regolamento relativa all'importazione di molluschi dall'agroellandia che i produttori italiani di molluschi ritenevano pregiudizievole dei propri interessi per cui i colleghi del Senato con grande abilità retorica hanno tentato di mascherare da rilievo sulla base giuridica e sulla sussidiarietà quello che era chiaramente un legittimissimo rilievo di merito contribuendo però a screditare la procedura di sussidiarietà una breve parola sulla cooperazione interparlamentare la Camera l'ho già detto in tempo della cooperazione interparlamentare come strumento non per creare un sindacato dei parlamenti nazionali contro le istituzioni europee e il Parlamento europeo ma come strumento per dialogare e acquisire elementi per esercitare gli altri poteri per questa ragione caro Paolo la Camera si è opposta devo dire in modo brutale in seno alla COSAC quando la COSAC cioè la conferenza delle commissioni per gli affari europei dei vari parlamenti ha tentato a più riprese di attribuire ad un segretariato che già ha e che si compone di un funzionario distaccato da un Parlamento nazionale a tempo pieno cofinanziato da tutti gli altri parlamenti e di tre funzionari ciascuno in rappresentanza della troica presidenziale di attribuire a questo segretariato quel compito di cui parlava il professor Tonzano la Camera ed altri parlamenti hanno aspramente combattuto questa prospettiva di creare un segretariato che si occupasse di promuovere il raggiungimento delle soglie per il cartellino giallo e per il cartellino arancione può essere condivisa o non condivisa questa posizione ma ho spiegato qual è la razione come si inserisce e concludo in questo contesto nelle maglie di questo sistema il raccordo tra il Parlamento Italiano il Parlamento Nazionale e le Assemblee Regionali allora conoscete ve le illustreranno meglio di me Barbara Sardella o questo pomeriggio e gli altri relatori le disposizioni che nella legge 234 nel 2012 e negli statuti delle singole regioni disciplinano la possibilità per le Assemblee Regionali di intervenire nella fase di formazione della normativa europea addirittura nella legge 234 nel corso dell'esame al Senato che come vedrete è più sensibile alle questioni regionali queste disposizioni sono state per certi aspetti duplicate abbiamo l'articolo 24 paragrafo 3 che dice che ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti le regioni e le province autonome nelle materie di loro competenza possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio al Ministro degli Affari europei dandone contestuale comunicazione alle camere e alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle regioni l'articolo 25 prevede confermando una regola che ha richiamato il professor Conzano e che si trova nell'articolo 6 del protocollo numero 2 che le assemblee regionali possono trasmettere alle camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare degli progetti di atti europei ai fini della sussidiarietà e ci sono poi due disposizioni a specchio negli articoli 8 e 9 della legge 234 che concernono il primo il controllo di sussidiarietà e il secondo non si sa perché il dialogo politico l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che ha introdotto in una norma legislativa la procedura per esercitare una prerogativa che a livello europeo non ha base giuridica ma che è definita nella prassi tutto questo è servito nell'ottica di che ha scritto quella norma essenzialmente per dire una cosa apparentemente importante ma in realtà a mio avviso del tutto superflua e cioè che le assemblee che i documenti che le camere inviano alla commissione europea al Parlamento Europeo per il dialogo politico tengono conto di eventuali osservazioni e pareri formulate dalle regioni e dalle province autonome e dalle rispettive assemblee e consigli questo quadro giuridico dice sostanzialmente quello che si poteva fare anche prima dell'adozione della legge 234 cioè che le regioni le assemblee regionali possono dialogare con il Parlamento nazionale nel esercizio sia della sua funzione di indirizzo e controllo sia dei suoi poteri di intervento diretto su ssigliarietà e dialogo politico di fatto dialogo politico e indirizzo e controllo nel caso della Camera e del Senato sul piano procedurale coincidono quindi per questo l'articolo 9 pleonastico le regioni possono mandare quello che vogliono alle Camere ciò posto Camera e Senato hanno adottato soprattutto nell'ultimo decennio un approccio nettamente differenziato nel attuare queste disposizioni o disposizioni che già esistevano dico con una punta di rammarico da consigliere della Camera che alla Camera c'è stata una attenzione molto bassa colpevolmente bassa verso le assemblee regionali perché non si è voluto in nessuna misura procedimentalizzare il raccordo tra le commissioni parlamentari e le assemblee regionali né ai fini della funzione di indirizzo e controllo né ai fini della sussidiarietà la Camera è stata pioniera nella creazione di un raccordo sistematico con le assemblee regionali creando la prassi dal 2000 di audire la conferenza dei presidenti delle assemblee regionali in occasione dell'esame annuale del programma legislativo e di lavoro della commissione europea purtroppo però da allora non ci sono stati altri tentativi di sistematizzare la cooperazione con le regioni pertanto tutte le a volte bellissime risoluzioni che le assemblee regionali una settantina in tutta la scorsa legislatura e già cinque dall'inizio nei tre mesi dell'attuale legislatura le assemblee regionali trasmettono alla Camera mancando peraltro una specifica disposizione regolamentare e vengono assegnate alle commissioni competenti che poi decidono se quando esaminano l'atto europeo in cui la risoluzione si riferisce se tenere conto ed in quale misura della posizione regionale per esempio svolgendo anche un'audizione di approfondimento o semplicemente menzionando nell'atto che approvano in esito alla procedura il contributo di quella regione i casi in cui il contributo delle regioni che sono menzionati sono rarissimi Barbara Sattella ricorderà un parere una risoluzione della regione Marche sulla riforma delle direttive appalti nel 2014 se non sbaglio ma ce n'è qualche altro si contano sulle dita di una maniera questo devo dire però è dovuto anche a due processi che troverete motivati in questi dati che vi lascio non so se li metto qui o se volete ve li distribuisco subito una serie di dati sulla partecipazione sulla sono statistiche sulla partecipazione della Camera al processo decisionale europeo questi dati come vedete dimostrano alcune cose molto importanti e cioè che la Camera ha aumentato ha diminuito il numero di atti esaminati nella scorsa legislatura rispetto alla precedente ma ha aumentato il numero delle pronunce questo indice della selettività con cui la Camera esamina gli atti europei meno atti rispetto al Senato ma con un'istruttoria più approfondita e un sostanziale coincidenza sostanziale tendenziale tra il numero di atti esaminati e le pronunce finali adottate una scarsa attenzione alla sussidiarietà come vedete nella scorsa legislatura addirittura appena 4 atti sono stati esaminati sotto il profilo della sussidiarietà ben 20 erano stati esaminati nella legislatura precedente nella sedicesima legislatura 8 pareri motivati nella passata nessun parere motivato ma soprattutto emergono l'elevatissimo numero di audizioni quindi di attività istruttorie svolte dalla Camera e l'esplosione dell'attività dell'Assemblea della Camera in materia europea si sono triplicate le sedute dell'Assemblea dedicate all'esame di atti europei e scusatemi non triplicate triplicate gli atti di indirizzo e quasi raddoppiate le sedute e questo cosa dice dice che la Camera è più selettiva nell'esame dei singoli atti fa un'istruttoria più articolata e tende a concentrare sempre più l'attenzione sulle grandi questioni e quindi sui grandi dibattiti in Assemblea le comunicazioni del Presidente del Consiglio prima del Consiglio europeo che fa anche il Senato e altre grandi questioni per esempio sono state addirittura approvate in Assemblea mozioni che riguardavano la riforma della PAC per intenderci in commissione si lavora quantitativamente meno ma qualitativamente di più il Senato invece non ho qui le statistiche aggiornate purtroppo me le hanno trasmesse in tempo esamina molti più atti svolge un'attività prevalentemente in commissione e già per questo aspetto risulta più appetibile per le Assemblee regionali ha un bacino potenziale di interazione con le Assemblee regionali più ampio a parte queste giustificazioni devo però ammettere che il Senato ha investito anche in vista della riforma costituzionale poi abortita di gran lunga di più sul raccordo con le regioni anzitutto perché il Senato ha costituito nella scorsa legislatura un sottocomitato permanente un'articolazione interna della commissione politica dell'Unione europea espressamente riservato all'esame delle opinioni dei consigli regionali e delle assemblee regionali poi successivamente nel settembre 2014 la commissione politica dell'Unione europea del Senato e la conferenza dei presidenti dell'assemblea regionali hanno stipulato un accordo interistituzionale per il miglior coordinamento delle rispettive attività europee che ha previsto quattro importanti punti e cioè una selezione congiunta coordinata dei dossier di interesse comune individuando ex ante su cosa lavorare insieme audizioni dei rappresentanti della conferenza dei presidenti dei consigli regionali su tutte le questioni di interesse comune una procedura standard per consentire alle commissioni competenti delle assemblee regionali di essere informate sull'avvio dell'esame di sussidiarietà di atti e quindi attivarsi in tempo utile per adottare eventuali osservazioni nelle otto settimane ed inoltre un impegno espresso a menzionare negli atti della commissione politica dell'Unione Europea del Senato le osservazioni regionali espresse e il Senato devo ammettere che ha dato seguito quando ha potuto sistematicamente a queste indicazioni è stato poi stipulato anche un protocollo più generale di collaborazione tra il Senato e le regioni che tra le altre cose richiama alcuni di questi aspetti questo è quindi lo stato dell'arte delle 70 risoluzioni o osservazioni trasmesse nella scorsa legislatura al Senato alla Camera soltanto un paio sono state menzionate in atti di indirizzo adottati dalla Camera verso il governo e verso le istituzioni europee mentre ben più abbondante è stato il Senato cosa fare in questa legislatura bisognerà valutare anche alla Camera se introdurre o in occasione di una auspicata riforma regolamentare oppure quanto meno con atti di soft law delle modalità standard per rafforzare la collaborazione nell'interesse primario della Camera perché spesso le pronunce regionali sono una fonte ma in generale il dialogo con i più bravi tra i funzionari di tanti bravissimi funzionari delle assemblee regionali sono una fonte di condivisione di espertise di arricchimento che in fondo la Camera fa già con i parlamenti degli altri parlamenti dell'Unione Europea sapete che esiste sicuramente molti di voi lo sapranno l'AITES il sistema per lo scambio di informazioni in forma elettronica che consente in tempo reale di sapere cosa un Parlamento ha fatto sta facendo in fase ascendente bisognerebbe ne abbiamo tante volte parlato e l'Assemblea regionale Umbra era capofila creare un analogo sistema a livello nazionale che anche con un'opportuna piattaforma elettronica consenta la condivisione non solo degli atti già adottati ma dell'expertise della preparazione che c'è dietro e con questo avrei tante altre cose da dire ma ho già abusato della vostra pazienza concludo grazie ringrazio molto l'ottore esposito per questa relazione che era ampia e anche molto documentata quindi è stata molto utile mi pare che c'è stata stamattina un'integrazione molto positiva tra la relazione del costituzionalista che ha dato un quadro di insieme non solo teorico ma anche basato sull'evoluzione pratica anche con apprezzabili riferimenti comparativi molto utili del quadro dei rapporti regioni d'Europa e poi le due relazioni che nascono da esperienze concrete e prolungate all'interno della commissione e all'interno della camera dei deputati bene allora riprendiamo i lavori buonasera a tutti e iniziamo con la relazione della dottoressa Sardella della regione Marche che ci parlerà sull'esperienza regionale nella costruzione e nell'attuazione delle regole europee la dottoressa ha distribuito anche dei documenti che chi non ce l'ha li può avere che sono tutti estratti dei processi verbali delle varie sedute dell'assemblea legislativa delle Marche che trattano dell'argomento di sua competenza prego dottoressa buonasera e innanzitutto anche da parte mia un sincero ringraziamento per questa occasione e anche per l'attenzione che si è voluta rivolgere all'assemblea legislativa delle Marche al lavoro che svolgiamo ormai da qualche anno io proverò a essere il più concreto possibile perché mi è stata assegnata una relazione in effetti in cui è bene entrare un po' nella concretezza di quello che come assemblea legislativa e in generale come regione Marche abbiamo tentato di portare avanti per quanto riguarda la linea di attività della partecipazione alla fase ascendente e poi anche a quella discendente e poi cercherò di spiegarvi come lo abbiamo interpretato nel corso di questi anni nella mattinata abbiamo avuto modo di entrare nel merito del principio di sussidiarietà del protocollo che lo declina delle procedure disciplinate sia a livello di trattato europeo che di ordinamento statale io cercherò attraverso la prassi di dimostrare come queste norme poi sono state in concreto applicate e partendo però da una considerazione necessariamente teorica di sistema diciamo così e la mia io vengo da una prima di entrare in regione vengo da un'esperienza di carattere diciamo scientifico nel senso che sono entrati in regione con un portato di studi di diritto europeo che mi hanno poi anche condotto per un periodo nelle istituzioni europee sono un giurista quindi la mia attenzione alla diciamo alla relazione tra ordinamento regionale e ordinamento europeo era necessariamente sempre stata necessariamente proprio per la mia formazione di carattere quasi squisitamente giuridico anche se poi nel corso della mia esperienza in regione mi sono occupata di gestione di fondi europei però l'ho sempre fatto dal punto di vista del giurista e anche per quanto riguarda l'approccio alla formazione quindi alla relazione tra ordinamento europeo e ordinamento regionale ho tentato di portare la mia esperienza di giurista di diritto europeo ma diciamo focalizzando la mia attenzione professionale all'indomani dell'entrata in vigore della legge 11 del 2005 sulle grandi opportunità che questa normativa offriva tant'è vero che noi siamo stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge di procedura e una legge di procedura tra l'altro di iniziativa consigliare perché io ero già in consiglio regionale quindi è stata una legge di procedura pensata dai consiglieri ma per valorizzare il ruolo dell'assemblea legislativa all'interno delle opportunità che offriva il nuovo articolo 117 perché già ancora prima delle modifiche introdotte al protocollo sulla sussidiarietà dal trattato di Lisbona la costituzione declinava con estrema chiarezza i principi riguardanti la partecipazione delle regioni alla formazione del diritto europeo e poi il recepimento diciamo così attuazione in senso più lato quindi questa è stata un po' l'ottica devo dire che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e con il protocollo sulla sussidiarietà ci si sono aperti degli scenari assolutamente stimolanti che tra l'altro hanno trovato nella composizione dell'assemblea legislativa di allora parliamo del 2010 un certo terreno fertile e ancora prima quindi della legge 234 siamo state la prima assemblea legislativa a sperimentare la procedura di early warning l'ho fatto lo abbiamo fatto con una occasione lo abbiamo fatto perché mi è stata posta una questione concreta la regione tutte le regioni italiane avevano un problema concreto rispetto alla non ammissibilità cofinanziamento dell'IVA sui nell'ambito degli interventi cofinanziati con il fondo con il PSR quindi con i fondi agricoli era una difficoltà oggettiva che comportava per ogni regione almeno diciamo nel mio caso vi dico anche qual era la cifra da stanziare in bilancio però ogni regione doveva stanziare nel proprio bilancio fondi regionali per rimborsare gli enti locali che attivavano interventi cofinanziati con il PSR della quota dell'IVA sugli interventi realizzati perché a differenza di quanto accadeva nell'ambito degli altri programmi europei il PSR stranamente non riconosceva la possibilità per gli enti locali per i quali l'IVA non è un costo di ammetterla a cofinanziamento cioè di presentarla nell'ambito della rendicontazione delle spese sostenute per noi per la regione Marche significava un 300.000 euro l'anno di bilancio regionale che poi lo Stato rimborsava ma con modalità e tempi che diciamo non garantivano gli enti locali sotto il profilo della realizzazione dell'intervento come sapete un intervento finanziato con fondi europei deve essere realizzato entro tempi certi per consentire all'ente locale di portare avanti l'intervento e di rendicontarlo la regione anticipava la quota di IVA la quota a carico dell'ente locale a titolo di IVA sull'intervento realizzato venne da me un consigliere regionale e mi disse come posso fare io studiai la normativa europea gli dissi c'è un solo modo bisogna cambiare il regolamento europeo in particolare parliamo della scorsa programmazione e quindi il regolamento riguardante il fondo europeo di sviluppo rurale della scorsa programmazione che non aveva questa norma proprio non aveva questo principio al proprio interno la fortuna volle che mentre ne discutevamo la commissione europea presentò una modifica al regolamento e allora ci inventammo una procedura parliamo a fine 2010 ci inventammo una procedura la cosa piacque sia a noi al consiglio regionale ma devo dire anche i colleghi del consigliere parlamentare perché poi agimo di sponda quando spiegai al consigliere Capuano che assiste la quattordicesima commissione al senato a quelle potevano essere gli sviluppi allora decidemmo che potevamo tentare la procedura di early warning anche senza una diciamo una procedimentalizzazione compiuta che poi sarebbe avvenuta con la legge 234 e adottavo questa risoluzione la risoluzione del 30 novembre 2010 il senato la considerò come voto della nostra assemblea legislativa e nel merito condivise le nostre considerazioni poi tenete conto di un fatto che le procedure di early warning insistono finalizzate poi ad intervenire su una normativa europea in gestazione insistono su archi temporali piuttosto lunghi quindi richiedono pazienza e soprattutto la capacità di seguire quello che accade ad una proposta normativa il Parlamento europeo fu incardinata la modifica per seguire direttamente questa modifica accompagnai il consigliere regionale che aveva posto il problema a colloquio con il presidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo l'omorevole De Castro che prese in considerazione seriamente la questione e ci disse non me ne ero accorto cioè nessuno ce l'aveva mai posta questa questione e che ci disse poi che avrebbe fatto di tutto per era presidente della commissione agricoltura per emendare la proposta di modifica del regolamento FEASR nel senso indicato dall'Assemblea Legislativa delle Marche ma anche dal Senato italiano questa proposta di modifica poi si arrenò perché nel frattempo arrivarono le proposte dei nuovi regolamenti europei sulla coesione e la regola della possibilità di riconoscere a cofinanziamento l'IVA quando non rappresenta un costo quindi per tutti gli enti locali che non la possono recuperare divenne una regola generale interfondo cioè tutti i fondi europei oggi hanno questa regola fu un caso non lo so se fu un caso a me piace pensare che comunque è stato anche grazie alla riflessione che si è avviata all'interno dell'Assemblea Legislativa delle Marche che si è ottenuto questo risultato parto da un esempio per farvi capire come abbiamo impostato la procedura di fase ascendente dal 2010 ad oggi oggi questa mattina abbiamo sentito parlare di sussidiarietà e di merito è evidente che in linea di principio dovremmo fermarci a dire se l'intervento dell'Unione Europea la proposta della Commissione quindi l'attività normativa dell'Unione Europea realizza meglio come dice il trattato un obiettivo comune questo è la verifica di sussidiarietà poi la proporzionalità attiene a come lo si fa anche sotto il profilo del tipo di strumento che si utilizza noi nell'Assemblea Legislativa delle Marche abbiamo affinato un meccanismo che è una sorta di cavallo di Troia peraltro condiviso sia a livello di altre Assemblee Legislative ma in qualche modo anche dalle Camere del Parlamento con cui dialoghiamo perché senza le Camere del Parlamento noi non potremmo assolutamente niente insomma noi abbiamo ragionato in questo modo per stabilire se è vero che l'intervento dell'Unione Europea è più efficace per il ragionimento di obiettivi comuni dobbiamo entrare nel merito e quindi noi facciamo una verifica di sussidiarietà oggi evidentemente citiamo la legge 234 citiamo il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sapendo però che il nostro obiettivo è entrare nel merito e della proposta e nei limiti del possibile valutarne gli effetti exante i possibili effetti a livello regionale e locale d'altro canto è lo stesso protocollo sulla sussidiarietà che ci dice che la valutazione di impatto quindi che accompagna la proposta dovrebbe tentare a livello prospettico questo tipo di valutazione noi cerchiamo di farlo in concreto perché poi questa mattina ne abbiamo parlato ampiamente è vero che si fa fatica da Bruxelles a valutare tutti quelli che sono i possibili effetti di una proposta rispetto a un panorama e rispetto diciamo a situazioni sociali economiche territoriali a volte anche culturali profondamente differenti ancora prima dell'esperienza di early warning vera e propria abbiamo sperimentato anche un'altra modalità di partecipazione al processo normativo europeo perché anche qui su sollecitazione di un consigliere regionale devo dire particolarmente attento a queste tematiche mi è stata sottoposta una consultazione della commissione europea parliamo sempre del 2010 sulla nuova politica forestale può sembrare un aspetto marginale in realtà quando si parla di forestazione si toccano temi a volte diciamo differenti però che si compenetrano aspetti socio-economici aspetti di tutelare il territorio aspetti di prevenzione dai rischi e non ultime le questioni ambientali la consultazione che la commissione europea aveva lanciato era finalizzata a capire come doveva svolgersi come si sarebbe potuto o dovuta diciamo declinare la politica di forestazione in vista anche della coesione della politica di questione post 2010 e in questo caso abbiamo lavorato sperimentando poi una modalità che invece oggi attuiamo normalmente nelle procedure di fase ascendente coinvolgendo il corpo forestale dello Stato l'università delle politecniche delle Marche la facoltà di scienze forestali e i soggetti economici il patenariato socio-economico perché evidentemente quando si tocca questo tema occorre questo come tanti altri peraltro però occorre essere in grado di immaginare gli effetti di una politica che si sta studiando delineando su una pluralità di ambiti analizzando la proposta di nuova politica forestale ci siamo resi conto che da parte della Commissione Europea c'era stata una diciamo sottovalutazione di quelle che sono le specificità delle foreste mediterranee perché la politica proposta era impostata via prioritaria alla valorizzazione delle foreste del nord Europa quindi si parlava di una vocazione ambientale ma in particolare produttiva delle foreste del nord Europa apro una parentesi è evidente che io giurista non posso arrivare a questi livelli di dettaglio dell'analisi di testi a volte molto tecnici per cui il confronto il dibattito l'arricchimento che ci fu in quell'occasione con il mondo scientifico il corto forestale dello Stato e poi anche chi avrebbe potuto lavorare e lavorava nel mondo della forestazione fu molto utile per arrivare a delle conclusioni che furono conclusioni tutto sommato semplici ma che poi portarono a degli effetti perché noi arriviamo a dire in questa consultazione alla Commissione europea che dal nostro punto di vista di Assemblea Legislativa delle Marche mancavano non erano adeguatamente declinati gli aspetti relativi alle potenzialità non solo produttive ma di salvaguardia di tutela del territorio che sono insite nelle foreste mediterranee che sono foreste completamente diverse da quelle d'alto fusto dell'Europa questo lo capì anch'io dopo quando si mette a studiare capisce perché non ve la faccio lunga però mi spiegarono come il mantenimento della foresta anche soltanto sotto il profilo proprio della gestione come si dice in termini tecnici quindi per evitare che un bosco vada fuoco penso che parlo di cose che in Umbria sono abbastanza conosciute almeno d'estate perché poi l'appennino lo condividiamo allora la gestione di una foresta come la nostra richiede interventi e quindi anche linee di finanziamento nell'ambito della politica forestale europea evidentemente diverse da quelle che sono necessarie per i boschi produttivi del nord Europa anche qui ve la faccio breve finì la consultazione l'Unione Europea voi sapete anche quando si costruisce una politica anche qui passa qualche mese nel 2011 fu adottata la politica definitiva che poi trovò ingresso nella nuova programmazione dei fondi agricoli e quindi la nuova politica di forestazione a livello europeo e ci fu anche un'attenzione alla potenzialità della foresta mediterranea che prima non era citata e nella lettura perché poi la Commissione Europea in questo è molto attenta perché dà conto di tutti i contributi ricevuti dai partecipanti alle consultazioni nella lettura di questo resoconto c'è proprio scritto chiaramente che fu un intervento di un'assemblea legislativa regionale a suggerire il cambio di prospettiva una piccola una piccola anche che un piccolo risultato che ripaga magari di tanti mesi o comunque tante settimane di lavoro nel merito noi questi sono diciamo due episodi un po' emblematici che però danno credo il senso di come abbiamo impostato il lavoro e di come lo abbiamo portato avanti dal punto di vista procedurale noi utilizziamo delle risoluzioni dell'assemblea legislativa regionale abbiamo ragionato anche sulla tipologia dell'atto personalmente ritengo che l'atto della risoluzione dell'assemblea sia quello che garantisca al meglio il confronto con tutte le forze politiche che intendono evidentemente diciamo entrare a contatto con queste problematiche perché poi non a tutti interessa davvero capire che cos'è la partecipazione alla fase ascendente perché forse non se ne vedono proprio come linee di attività non se ne vedono i risultati in modo immediato quindi diciamo manca questa prospettiva di breve termine che a volte diciamo interessa di più la politica però è anche vero che lavorando diciamo per far nascere un dibattito all'interno dell'assemblea è stato dal mio punto di vista la modalità migliore oggi a regime noi utilizziamo tutti i canali di partecipazione alla fase ascendente che l'ordinamento mette a disposizione e lo facciamo tra l'altro con una vecchia legge regionale perché la legge di procedura che ho studiato nel 2005 che poi è diventata legge nel 2006 oggi è assolutamente inadeguata dovrebbe essere adattata alle modifiche intercorse con la legge 234 però è anche vero che è una legge di procedura che per le finalità di la cui assolve ancora oggi nei fatti è assolutamente non appare come uno strumento da superare almeno se non da un punto di vista meramente formalistico quasi capito perché ha in sé tutti gli elementi che consentono all'assemblea di esprimersi perché noi attiviamo in modo diciamo assolutamente paritario i vari canali a seconda anche della tipologia dell'atto e della situazione abbiamo partecipato e continuiamo a partecipare alle consultazioni che l'Unione Europea lancia partecipiamo alle procedure di early warning e anche al dialogo politico con un unico atto che è proprio titolato partecipazione alla procedura di early warning dialogo politico con le assemblee e le istituzioni dell'Unione Europea noi inviamo i nostri contributi alle assemblee del Camera e Senato italiani e anche alle istituzioni europee poi aderiamo ormai da tanti anni alla rete della sussidiarietà del Comitato delle Regioni e quindi utilizziamo anche questo canale vorrei anche qui magari diciamo soffermarvi su alcuni aspetti di carattere squisitamente procedurale la partecipazione alla fase ascendente richiede una attenzione io dico quasi giornaliera a tutto ciò che accade in Europa è un'attenzione giornaliera che evidentemente necessita anche di tempo e di expertise perché devo poter capire che cosa sta accadendo e devo anche poter capire se quello che sta accadendo a livello europeo potrà avere una qualche ricaduta magari fra tre quattro e più anni a livello regionale una volta diciamo il presupposto da cui partiamo ormai da tanti anni è l'analisi del programma di lavoro della commissione europea il programma annuale non possiamo prescindere da quello oltretutto come ci diceva il professor Ponzano questa mattina adesso l'atto è veramente snello c'è un programma di lavoro che si focalizza su alcuni temi tra l'altro sono temi e argomenti che si ripetono perché fanno riferimento al programma di lavoro che viene annunciato all'inizio dell'attività della nuova commissione quindi non è un atto che si fa fatica ad analizzare appena esce tra la fine di ottobre e i primi di novembre l'atto viene trasmesso a tutti i membri della commissione di merito che nel caso dell'assemblea legislativa delle marche è la seconda commissione attività produttive lavoro commercio industri agricoltura per un'analisi questo serve per sostenere diciamo una sensibilità da parte dei consiglieri è evidente che la prima attività istruttoria la faccio io quindi diciamo un'indicazione di massima sulle tematiche da interloquire o da seguire in fase ascendente perché non è detto poi che si interloquistano tutti gli atti si fa una scelta del tema ma poi non è detto che quando l'atto viene pubblicato sia di reale interesse per la regione questa scelta viene effettuata tenendo conto di un'attività istruttoria di carattere generico che faccio io ma anche sulla base delle analisi quindi delle considerazioni e del portato che viene chiesto anche ai singoli consiglieri perché il consigliere che rappresenta un territorio una realtà socio-economica potrebbe seguire magari da anni una questione che so io in tema di tutela valorizzazione di un prodotto tra l'altro è un tema reale che potrebbe incontrare un interesse poi concreto reale nel momento in cui andiamo a esaminare il programma di lavoro dell'anno di riferimento è una modalità questa tra l'altro e qui c'è un consigliere regionale per cui sono anche contenta di poterne parlare in modo molto colloquiale e sereno è una modalità che responsabilizza la politica perché noi tecnici dobbiamo evidentemente sostenere il lavoro della politica però è il decisore politico che deve sentire la responsabilità di comprendere che se a Bruxelles c'è qualcuno che sta parlando di forestazione o di pesca e poi vi porto anche un paio di esempi su questo parlare di questi temi potrebbe fra due tre anche magari dieci anni anche alla fine del mandato avere delle ricadute concrete a livello regionale e locale quindi è un'operazione di responsabilizzazione che la politica deve sentire perché qui e poi vi parlo da persona che ha passato diversi anni all'università quindi noi qui dobbiamo un po' uscire dall'accademia e ci dobbiamo confrontare poi sulle ricadute effettive credo che questa modalità di lavoro sia positiva questi sono i riscontri di vi ho detto la prima procedura di partecipazione di fase ascendente risale dal 2010 quindi riscontri di otto anni posso dire che ormai la prassi è abbastanza consolidata è una modalità che ha dato i suoi frutti non soltanto dal punto di vista della partecipazione in concreto a quella politica ma soprattutto in termini di sensibilizzazione delle istituzioni e qui vengo con un altro esempio nel 2015 l'Unione Europea la Commissione lanciò una consultazione sulla opportunità di disciplinare con un atto a livello europeo la gestione dei piccoli pelagici a voi Umbri forse dice poco a noi marchigiani è una cosa che ci interessa davvero perché il piccolo pelagico cioè il pesce azzurro alimenta un comparto importante della pesca regionale che vuol dire intervenire con un piano di gestione vuol dire contingentare le catture quindi prima l'ho capito io cosa era cosa voleva dire voleva dire determinare i quantitativi di pesce che possono essere prelevati perché parliamo comunque di una materia particolarmente attenzionata dall'Unione Europea perché ha implicazioni ambientali elevatissime ci sono studi che monitorano l'andamento della risorsa si dice così insomma quando ci siamo resi conto quando mi sono resa conto che usciva questa consultazione ho detto beh attenzione guardiamo cosa sta succedendo e ci ho portato i consiglieri dei giornali ho detto guardate che qui può essere che tra due anni i pescherecci la nostra marineria la nostra piccola marineria noi parliamo comunque di barche piccole non sono evidentemente i pescherecci del mare del nord potrebbe essere tenuta a uscire tre volte nell'arco di non so che periodo e portare a terra tot chili rispetto a quello che succede oggi con tutto ciò che ne comporta in termini di misure di sostegno poi a reddito insomma lo sappiamo cosa vuol dire introdurre un meccanismo di questo tipo devo dire che ho ricevuto un'attenzione massima immediata che ha portato la regione a prendere una posizione di concerto quando noi ci occupiamo di temi così specifici chiamiamo sempre degli stakeholders diciamo così altamente qualificati quindi il mondo della pesca i sindacati considerate che quando si va ad un intervento di fermo pesca si devono sempre comunque pensare a delle misure di sostegno al reddito compatibili non compatibili insomma si aprono degli scenari abbastanza complicati poi da gestire quindi sindacati CNR delle marche perché noi ad Ancona abbiamo un centro di ricerca sulla biologia marina i pescatori evidentemente quindi tutti i rappresentanti dei pescatori ve la faccio breve perché poi alla fine l'Unione Europea ha deciso di intervenire con una proposta a questo punto noi abbiamo fatto la procedura di early warning dicendo che non era pensabile ragionare in termine di quote per barca ancora la proposta in gestazione però che è successo? è successo che la procedura di early warning ha creato una sensibilità e questo inverno a febbraio di quest'anno due consiglieri uno di minoranza e uno di maggioranza sono partiti per andare a sostenere e a perorare le cause del territorio con i parlamentari europei ecco quindi che diciamo siamo forse un po' fuori dalle procedure di cui abbiamo sentito parlare questa mattina però siamo un po' concretezza effettiva di una di una modalità che nasce dall'occasione e da un principio io non saprei declinare meglio l'applicazione del principio di sussidiarietà perché se sussidiarietà significa questa mattina abbiamo sentito dire prendere le decisioni al livello più basso di quella cittadinanza di quel gruppo sociale o comunque dei destinatari di quella decisione in modo tale che i destinatari della decisione ne tragano il beneficio o gli effetti che sono declinati in premessa richiede delle modalità richiede sicuramente un'attività di attenzione sicuramente un'attività di studio ma richiede anche poi delle modalità particolari che attuano nei fatti delle norme quindi diciamo che l'esperienza che stiamo portando avanti è un'esperienza positiva perché ci ha consentito di utilizzare degli strumenti che sono stati tra l'altro anche fortemente voluti a livello regionale perché noi abbiamo molto creduto nella modifica diciamo nella revisione della legge 5 e nella legge 234 io ricordo che abbiamo lavorato anche noi come assemblee legislative su quelle parti che ci interessavano devo dire che sono state scritte come ci piacevano questo lo possiamo anche confessare ormai è passato del tempo perché ci siamo messi lì i colleghi di Camera e Senato sono stati molto attenti a quelle che ci sembravano delle istanze legittime da portare avanti perché non possiamo ragionare in termini di appesantimento delle procedure noi dobbiamo pensare a norme che servano all'obiettivo e riteniamo anche a fronte a un punto di un po' di esperienza che queste norme servissero all'obiettivo vi ho portato un'ultima l'ultima risoluzione che abbiamo adottato il 26 di giugno su una questione tra l'altro che diciamo costituisce uno degli aspetti centrali dell'attività della commissione e più in generale dell'Unione Europea di questi ultimi anni perché noi ci stiamo occupando ormai da tre anni di economia circolare e come forse saprete nel programma di lavoro della commissione europea si tratta ormai di un tema ricorrente perché questa commissione prima ha tentato ed è riuscita dove non era riuscita la precedente cioè a modificare le direttive sui rifiuti per aumentare il livello di rifiuto che non deve finire in discarica e poi però ha adottato tutta una serie di proposte e di riflessioni sulla cosiddetta economia circolare che è la sfida vera e che tra l'altro oggi costituisce uno degli obiettivi almeno nella prima bozza di regolamento quadro per il post 2020 quindi sulla coesione 2021-2027 è uno degli obiettivi della politica di coesione ormai diciamo ed è credo un merito dell'Assemblea Legislativa delle Marche quando si parla di economia circolare non c'è neanche bisogno di dire interveniamo o studiamo sono gli stessi consiglieri che dicono questa bisogna farla però Barbara cioè io presento l'atto che nel caso specifico si tratta di due comunicazioni e di una della proposta di direttiva su rifiuti portuali non si discute neanche in commissione della opportunità di seguire queste proposte in fase ascendente si dice lavoriamo perché ormai dopo due anni che ce ne occupiamo ne abbiamo percepito gli aspetti potenzialmente positivi non solo sull'ambiente perché è chiaro che interessa a tutti tutelare l'ambiente ma anche su una su possibili diciamo sviluppi di carattere socio-economico una delle urgenze maggiori di tutta Italia verosimilmente ancora di tutta Europa ma in Italia è un problema ancora drammatico è uscire dalla crisi economica noi abbiamo comparti produttivi nella regione Marche sono anche molto vicine delle questioni con l'Umbria con parti produttivi che non rinasceranno più oggi abbiamo anche da gestire gli effetti del terremoto che non sono soltanto effetti ambientali sono effetti demografici sono effetti di carattere socio-economico perché le attività produttive che erano presenti nei territori terremotati non ci sono più e verosimilmente quando torneranno dovranno essere declinati in modo diverso da come erano e allora mi si dice studiamo l'economia circolare perché potremmo ragionare anche in termini di sviluppo concreto del territorio di opportunità di sviluppo socio-economico vi faccio un ultimissimo esempio relativo a questa nuova proposta di direttiva sui rifiuti portuali ormai vi ripeto anzi non mi ripeto considerate che ho dei in commissione dei consiglieri che queste cose le studiano senza che io gliele sollecito quindi insomma siamo arrivati credo ad un livello di attenzione massimo quando ci siamo resi conto che la proposta di direttiva propone cioè ha in sé l'idea che chi riporta il rifiuto il peschereccio perdonatemi passaggio però noi abbiamo una marineria molto importante nella regione Marche il peschereccio che riporta a terra il rifiuto deve pagare per lo sbarco probabilmente è un principio diciamo è la declinazione in qualche modo del principio chi inquina paga salvo però riflettere sul fatto che la diciamo che si tratta non di un inquinamento voluto ma è una diciamo un ritrovamento accidentale del rifiuto cioè quello che viene pescato quando si gettano le reti e siccome la questione della plastica in mare è drammatica e poi sapete che di recente è stata anche resa pubblica ufficializzata la nuova proposta quella veramente è una proposta importante sulla riduzione delle microplastiche proprio per evitare l'inquinamento in mare allora è assolutamente sacrosanto pensare che quando viene pescato in modo accidentale un rifiuto non debba essere gettato in mare però invece di prevedere dei meccanismi che verrebbero percepiti come punitivi noi abbiamo detto prevediamo degli incentivi cioè i comportamenti virtuosi vanno incentivati oltretutto andare a dire guarda che magari fra qualche anno se dovesse rimanere così la direttiva andare a dire al peschereccio della marineria di Ancona non solo devi riportare a terra il rifiuto ma devi pagare per lo sbarco insomma non credo che creerebbe tutto questo consenso nei confronti di un'Europa che un po' di limiti li sta dimostrando capito se non altri in termini di ridotta capacità di comunicare gli aspetti positivi che l'Unione Europea ha rappresentato e rappresenta ma è da tanti tanti anni capito quindi questo è un po' il contesto in cui abbiamo diciamo lavorato e continuiamo a lavorare vi parlo brevissimamente della cosiddetta fase discendente io confesso che alla fase discendente cioè alle leggi regionali le leggi europee regionali credo poco credo poco perché noi come sistema ordinamentale italiano assistiamo ad una sorta di superfettazione normativa e dubito da giurista io sono una segretaria di commissione per cui mi occupo di leggi a 360 gradi dubito che ci siano tali e tante specificità territoriali da richiedere delle norme puntuali a livello regionale di recepimento di una normativa europea questo è il frutto anche un po' della mia esperienza oltretutto vi dico anche un altro aspetto tecnico quando vengono adottate le normative di recepimento sapete che un regolamento non si recepisce a livello formale dopodiché però magari servono 3, 4, 10 decreti ministeriali attuativi è ormai normale che il decreto ministeriale venga assentito anzi condiviso a livello di conferenza Stato-Regioni quindi la Camera di compensazione per fare in modo che un'istanza regionale venga recepita in fase discendente esiste nel sistema ordinamentale italiano quindi io non dico che ovviamente è una possibilità data dalla Costituzione lungi da me da dire che non si debba praticare dico solo che se abbiamo energie limitate a livello regionale credo che sia opportuno concentrarsi maggiormente sulla fase di formazione delle politiche europee piuttosto che su quella del ricepimento altro è invece questo è lo stesso un tema molto interno la cosiddetta sessione europea dell'Assemblea legislativa tasto dolente perché è il luogo in cui l'Assemblea legislativa dovrebbe svolgere la funzione di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale rispetto all'attuazione delle politiche europee qui probabilmente siamo un po' indietro tutti quanti come sistema regionale perché entriamo in un argomento che non è proprio il core business dell'Assemblea legislativa perché entriamo nella gestione dei fondi e seguire la gestione dei fondi quindi quegli strumenti con cui si sta dando attuazione alle politiche regionali i fondi europei per intenderci non è semplice però è invece diciamo l'aspetto della cosiddetta fase discendente che dal punto di vista dell'Assemblea legislativa risulta essere più interessante perché è il luogo anche istituzionale oltre che politico in cui l'Assemblea legislativa può veramente dare degli indirizzi alla Giunta regionale noi abbiamo sperimentato una modalità rispetto a questo che poi adesso riproporrò perché ci stiamo affacciando alla nuova programmazione dei fondi europei e per il precedente periodo di programmazione abbiamo fatto un lavoro credo assolutamente dignitoso perché abbiamo provato come Assemblea legislativa a dare degli indirizzi alla Giunta l'abbiamo fatto provato e poi sono stati declinati effettivamente rispetto ai programmi operativi regionali PSR PORFESR FSE insomma li conoscete sono gli strumenti con cui ormai si fa sviluppo sui territori perché di risorse interne ce ne sono molto poche in quest'ottica l'Assemblea legislativa ha studiato i regolamenti e ancora prima che arrivasse l'accordo di partenariato ha detto alla Giunta guarda Giunta ovviamente tu ti inserirai in un contesto dato definito perché la programmazione dei fondi europei è altamente diciamo ingabbiata no? ecco quindi poco possiamo in quel poco in quel ridotto margine di manovra ci vogliamo entrare e vorremmo che dentro i nuovi programmi operativi ci fossero queste linee di attività parliamo diciamo di un aspetto particolare della cosiddetta fase discendente tenete anche conto che fase scendente e fase discendente sono processi cioè non possono essere visti in senso orizzontale ma sono dei processi assolutamente circolari che richiedono attenzione istituzionale costante e anche diciamo una certa apparato tecnico e qui chiudo diciamo con la nota dolente che troppo spesso siamo come sistema regioni incapaci di esprimere tutte le potenzialità che dovremmo invece rappresentare perché ci manca la struttura e oppure riteniamo che questa linea di attività possa essere associata su altre linee di attività allora se ci crediamo davvero dobbiamo chiedere noi tecnici ma soprattutto l'istituzione politica deve fare una riflessione e dire io voglio potenziare la struttura con adeguate risorse umane perché la risorsa umana in una linea di attività come questa fa la differenza e un pochino di investimento non è un investimento fine a se stesso capito perché poi il ritorno non c'è per il singolo ma c'è per il sistema stamattina parliamo di sistema paese che a volte è mancato nell'interlocuzione con le istituzioni europee nel mio piccolo io dico ci deve essere nel sistema regionale capito io mi fermo qui perché penso di aver esaurito i minuti a disposizione grazie grazie dottoressa Sardella che con una relazione molto interessante anche con degli spunti pratici ci ha fatto capire come la regione può intervenire positivamente nella costruzione delle regole europee poi il consigliere Morroni ci dirà la regione Umbria se ha fatto fare la stessa cosa allora adesso abbiamo l'ultima relazione che è del professor Fabio Raspadori che ci parlerà sul contributo delle reti interregionali al processo di integrazione europea prego grazie per prima cosa anch'io ringrazio il consiglio regionale in particolare l'avvocato Campiani per che ha anzitutto organizzato per la mia presenza perché ha organizzato questo appuntamento che ritengo sia davvero doveroso in quanto se ne parlava anche prima si parla molto di Unione Europea in genere se ne parla in maniera vaga generica ma mancano le occasioni di approfondimento e quelle poche occasioni come questa di approfondimento scientifico puntuale non vengono diciamo frequentate da ampie masse ecco di interessati che invece dovrebbero esserci è bene che si insista è bene che si perseveri su questo fronte perché ce n'è un grande bisogno venendo al tema un po' di nicchia del mio intervento questa mattina guardando il Deblian pensavo forse avrei fatto meglio a chiedere di essere inserito in mattinata poi invece sentendo l'intervento della dottoressa Sardella ho detto bene invece è meglio che intervenga in questo momento perché io mi occuperò ecco di reti interregionali reti interregionali create e coordinate dal comitato delle regioni quale modalità attraverso cui a mio avviso sta emergendo una sorta di soggettività sicuramente europea probabilmente anche internazionale dell'ente regionale e quanto vi andrò a dire è a supporto di questa mia affermazione nell'ambito della dottrina internazionalistica i soggetti di diritto internazionale sono gli stati e poco altro adesso ho di decenni a questa parte si parla delle organizzazioni internazionali ma il centro resta sugli stati la comunità internazionale rispetto al momento in cui si è concepita la centralità dello stato quale soggetto internazionale tuttavia è cambiata e di parecchio e ne abbiamo tutti una consapevolezza abbastanza evidente le multinazionali e il loro peso nelle relazioni internazionali e anche interstatali il ruolo della cosiddetta soft law degli standard tecnici che non sono adottati né da stati né da organizzazioni ma in genere da enti privati l'immersione dello stesso individuo quale portatore di istanze che sono riconosciute giuridicamente da trattati internazionali e la lista può proseguire a lungo e tra questi soggetti emergenti vi sono sicuramente anche le regioni per regioni io intendo come oggi ha chiarito prima di me il professor d'Atena non ovviamente le sole regioni come noi le concepiamo nell'ordinamento italiano ma le regioni quali ente di autonomia territoriale intese a livello europeo come anche questo penso sia noto a tutti in Europa esistono varie tipologie di enti di autonomia territoriale che riferiscono tra loro non soltanto per denominazione lander distretti contegui voi dati dipartimenti e via discorrendo ma soprattutto per poteri e funzioni legislative amministrative un po' legislative un po' amministrative quindi io utilizzerò il termine regioni riferendomi indifferentemente voi a quelle che noi chiamiamo regioni nell'ordinamento italiano come anche a quegli enti che noi invece consideriamo quali enti locali e questo perché nel contesto europeo vista questa grande eterogeneità di enti di autonomia territoriale ovviamente si utilizza una denominazione regioni che le abbraccia tutti io nel mio intervento ho previsto una parte introduttiva sull'escursus evolutivo delle regioni nel contesto europeo ma in buona sostanza ve lo risparmio perché già è un punto che è stato trattato egregiamente questa mattina dal professor Datena mi limito ad aggiungere un semplice aspetto lui relativamente al passaggio dalla assenza delle regioni dal processo di integrazione europea che si riscontra dall'inizio del processo di integrazione sia dagli anni 50 fino agli anni 80 con l'atto unico europeo che introduce tra le competenze dell'allora comunità economica europea anche quella in materia di coesione economica e sociale che poi diventerà territoriale oltre a questo elemento che rimanda alla nascita delle regioni in paesi europei quale ad esempio il Belgio o anche la formazione in Italia nel 70 incominciano a muovere effettivamente i primi passi delle regioni oltre a questo elemento che sicuramente è importante un altro aspetto che sicuramente ha spinto perché a livello europeo emergesse il dato regionale è quello che riguarda il perseguimento di obiettivi di sviluppo economico negli anni stante vero che è nel 75 che nasce il fondo di sviluppo regionale europeo anche in assenza di una solida base giuridica e questo perché ci si rende conto pur in assenza di specifiche norme che prevedessero e riconoscessero quello delle regioni che operare tenendo conto dei territori è una strada ineludibile se si vuole dare vita a dei solidi e permanenti processi di sviluppo economico e da lì il processo infatti prende avvio atto unico europeo come dicevo Maastricht è importantissimo nasce il comitato delle regioni ma poi soprattutto il trattato di Lisbona il trattato di Lisbona in realtà non crea nulla di nuovo perché non nasce la camera regionale il comitato delle regioni rimane tale ma aumenta i poteri che sono a lui attribuiti e aumenta anche il ruolo delle regioni il riconoscimento che l'ordinamento europeo assegna alle regioni come veri e propri enti di governo anche qui non mi dilungo più di tanto perché è stato ricordato da diversi relatori ciò che è previsto in riferimento alle regioni nei trattati istitutivi post Lisbona facendo un po' l'avvocato del diavolo ricordo tuttavia che nonostante queste novità novità positive se si guarda il ruolo delle regioni il comitato delle regioni che è l'organo rappresentativo degli enti di autonomia territoriale rimane una non istituzione non è una delle sette istituzioni previste dall'articolo 13 del trattato sull'unione europea e questo nonostante Lisbona introduce due nuove istituzioni quindi l'occasione era anche propizia per inserirci pure il comitato delle regioni visto ad esempio che c'è tra le istituzioni anche la corte dei conti che poi tutti questi poteri non è che ce l'abbia il comitato delle regioni resta fuori così come nonostante Lisbona il comitato delle regioni non ha la possibilità di intervenire direttamente nei processi decisionali neppure limitatamente ai casi di specific interesse territoriale che è una delle proposte che è stata più volte avanzata e che in fin dei conti qui un po' chiosando su quanto detto da ultimo il professor Datena oggi che affermava che a suo avviso non era possibile allargare più di tanto lo spazio del comitato delle regioni e della regionalizzazione europea scusate a mio avviso ecco ci si potrebbe pure stare questa un consolidamento dei poteri del comitato delle regioni attribuendo al comitato stesso un potere di interdizione di veto quantomeno sui provvedimenti di spiccata rilevanza regionale quale ad esempio quelli che attengono alla politica di coesione non morirebbe nessuno ma non c'è non c'è non ha questa prerogativa il comitato delle regioni non ha questa prerogativa e i cultori del bicchiere mezzo pieno potrebbero dire ma allora ecco sì tutte queste novità con Lisbona non è che ci sono state allora in fin dei conti se non è cecità quantomeno è una fortissima miopia quella che ancora affligge l'Unione Europea a mio avviso non è da condividere questa posizione perché nonostante il comitato non sia un'istituzione e non disponga di poteri forti quelli che gli sono stati assegnati lo portano ad essere a mio avviso il vero guardiano del principio di sussidiarietà guardando in particolare alle prerogative regionali prerogative regionali che proprio con Lisbona hanno compiuto un salto di straordinaria eccezionale dimensione si è ricordato più volte oggi che con Lisbona le regioni per la prima volta nella storia del processo di integrazione che ormai conta 70 anni sono considerate un vero e proprio livello di governo l'articolo 5 tante volte appunto citato dice che l'Unione Europea non può intervenire se si dimostra che è meglio che agisca a tutela dei piccoli pelagici lo Stato o la Regione anche se in questo caso qualche dubbio l'avrei perché secondo me rientra nell'ambito della politica della pesca una politica esclusiva quindi il principio di solidarietà non dovrebbe applicarsi però a parte questo le regioni devono essere prese in considerazione quale è un vero e proprio livello di governo ed è scritto nei trattati nell'articolo 5 del trattato sull'Unione Europea e il fatto che ci sia il Comitato delle Regioni lì attrezzato a verificare che questo principio venga rispettato nell'interesse delle Regioni rafforza decisamente il ruolo delle Regioni nel contesto europeo e nello stesso processo decisionale europeo nonostante il Comitato si aprivo il potere di interdizione il potere propositivo il Comitato delle Regioni ha preso talmente sul serio le novità di Lisbona che ancora prima che il trattato entrasse in vigore il trattato di Lisbona entra in vigore il primo dicembre del 2009 ma viene firmato nell'ottobre del 2007 già nel 2007 in realtà ancora prima del 2007 nel 2006 il Comitato delle Regioni anticipa con le azioni di cui parlerò tra breve l'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quel che riguarda le prerogative che lo riguardano e che interessano più generale le Regioni mettendo iniziando a mettere sul campo una serie di strumenti e di meccanismi volti a rafforzare il principio di sussidiarietà e la presenza delle Regioni nel processo di integrazione che è il vero argomento che io tratterò dopo questa introduzione forse un po' lunghetta ossia le reti interregionali coordinate dal Comitato delle Regioni ossia reti formate da Regioni provenienti da diversi Paesi europei che operano per raggiungere degli obiettivi condivisi sotto il coordinamento grazie al coordinamento usufruendo del sostegno del Comitato delle Regioni precisazione doverosa non solo nell'ambito dell'Unione Europea esistono gruppi interregionali associazioni interregionali il Consiglio d'Europa ad esempio da lungo tempo ha il congresso delle autorità locali e regionali al di fuori delle organizzazioni interregionali europee opera anche qui dagli anni 80 l'Assemblea delle Regioni d'Europa altro organismo di cui fa parte questa Assemblea regionale anche con responsabilità adesso non ricordo di quale commissione è il Consiglio è l'Assemblea delle Regioni Legislative dell'Unione Europea il CARLE e la lista potrebbe proseguire decisamente a lungo i gruppi le reti di cui vi parlo io hanno qualcosa di differente e probabilmente una marcia in più rispetto a questi organismi a cui ho fatto riferimento e cosa in cosa consiste questo di più di cui dispongono il fatto di operare all'interno dell'ordinamento europeo che riconosce alle Regioni come abbiamo detto più volte ormai poteri consistenti e poi hanno un tutore un guardiano che è il Comitato delle Regioni che ne amplifica l'azione a questo punto non mi resta che raccontarvi qualcosa su queste reti quali sono anzitutto queste famose reti uno o due sono state citate adesso non ricordo bene da chi l'ultima sicuramente da Teresa Sardella quella sulla sussidiarietà ma ne esistono anche delle altre la prima infatti che cito è la piattaforma di monitoraggio Europa 2020 istituita nel 2010 all'indomani dell'adozione da parte della Commissione europea della famosa comunicazione Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva che ha dato l'avvio a un'altra illustre sconosciuta ahimè dei nostri giorni che è la strategia Europa 2020 che teoricamente dovrebbe portare l'Europa e quindi anche il nostro paese entro il 2020 a partire dal 2010 a divenire Europa nel suo complesso l'economia più avanzata al mondo basata sulla conoscenza ci si provò già con la cosiddetta strategia di Lisbona non ci si è riusciti ci si sta riprovando con la strategia Europa 2020 di cui però ahimè non c'è una grande conoscenza diffusa il Comitato delle Regioni l'ha presa invece sul serio istituendo appunto questa piattaforma di monitoraggio piattaforma di monitoraggio all'interno della quale non solo circolano informazioni pareri posizioni relative a come dare attuazione alla strategia Europa 2020 ma in particolare dal 2003 questa piattaforma viene utilizzata per accrescere il supporto che le Regioni danno possono dare al cosiddetto semestre europeo che è quel meccanismo a scorrimento che vede impegnati tutti gli Stati dell'Unione Europea in questo diabolico processo che vede in una prima parte dell'anno l'Unione Europea in particolare la Commissione passare al microscopio le politiche soprattutto economico di rilievo economico dei 28 Stati membri concludersi questo primo semestre dell'anno con delle raccomandazioni per gli Stati da parte della Commissione variata dal Consiglio e poi il secondo semestre è lasciato agli Stati che dovrebbero attuare perché così si sono detti disposti a farlo le raccomandazioni presentate da Commissione e Consiglio il Comitato delle Regioni attraverso questa piattaforma dal 2013 insiste nel dire attenzione attenzione perché buona parte di queste raccomandazioni in uno degli ultimi rapporti che ho letto addirittura dice che il 75% di queste raccomandazioni hanno un forte rilievo sul territorio ci dobbiamo essere anche noi se non ci siamo anche noi e qui ecco le cose che ci ha raccontato la dottoressa Sardella sono concretamente illuminanti cioè c'è il rischio che si continui a mantenere quel livello deludente che attualmente caratterizza tutto il sistema pensate che attualmente solo il 15% ho letto in questo rapporto delle raccomandazioni che la Commissione e il Consiglio presentano agli Stati solo il 15% giunge a buon fine nel senso che sono raccomandazioni che vengono poi effettivamente prese sul serio e attuate dagli Stati il resto quasi il 90% invece passa in cavalleria seconda rete quella citata l'ottoressa Sardella la piattaforma di monitoraggio regionale sul principio di sussidiarietà nasce sempre su iniziativa del Comitato delle Regioni nel 2007 e serve a favorire la partecipazione delle Regioni nel monitoraggio di sussidiarietà che ha una doppia finalità aiutare il Comitato delle Regioni a svolgere il ruolo che è previsto nel trattato che gli consente di intervenire grazie al protocollo 2 nel caso in cui proposte della Commissione e anche degli Stati e anche di altre istituzioni non si attengono alla sussidiarietà e poi serve anche come best practice indipendentemente in fin dei conti dalla sussidiarietà come si è visto anche nel merito alle Regioni per correggere il tiro delle loro politiche e delle loro azioni la sussidiarietà è un punto chiave delle politiche regionali e del ruolo regionale e in questo senso il Comitato delle Regioni non si limita alla piattaforma di monitoraggio della sussidiarietà ma ha creato ulteriori strumenti oggi il Dottor Ponzano ha citato questa task force on sustainability proportionality and doing less more efficiently che è questo gruppo di lavoro costituito da Commissione Europea europarlamentari parlamentari nazionali e Comitato delle Regioni che in questo senso si vede accomunato ai Parlamenti nazionali e al Parlamento Europeo quindi altro salto di qualità istituito questo organismo nel 2017 che deve presentare entro il 15 luglio 2018 quindi tra pochi giorni sarà molto interessante vedere cosa dice questo rapporto delle proposte già delle anticipazioni sono disponibili delle proposte su come migliorare tutto il sistema sussidiarietà venendo anche incontro alle considerazioni che ancora una volta Ponzano sollevava riguardo ai limiti dell'early warning system in particolare e poi per finire il discorso non sulle reti mi dispiace per voi perché è ancora un po' più lungo ma sulla sussidiarietà un altro meccanismo inventato dal Comitato delle Regioni è questa piattaforma Regpex che è una piattaforma rivolta teoricamente alle sole assemblee legislative assemblee regionali con poteri legislativi come ad esempio questa in cui ci ospita per supportare i parlamenti nazionali in applicazione a quanto prevede il protocollo 2 in particolare all'articolo 6 i parlamenti nazionali possono attivarsi lamentando una non conformità al principio di sussidiarietà se del caso consultando le Regioni con competenze legislative a mio avviso ma vale quel che vale anche in Italia questo potere consultare poter consultare dovrebbe essere tradotto in un dover consultare nel caso in cui si parli di competenze spettanti in via prevalente alle Regioni ma il discorso prenderebbe altre strade quindi lasciamo perdere finita con la sussidiarietà non finisce qui la lista delle reti coordinate dal Comitato delle Regioni altra importantissima esperienza mi avviso è quella delle strategie macro-regionali le strategie macro-regionali non se le inventa il Comitato delle Regioni sono state istituite sono state formate dalla Commissione Europea a partire dal 2009 attualmente ne esistono quattro di una di queste ne fa parte anche l'Umbria Marche noi veniamo associati alle Marche guardando la cartina e è la strategia per la Regione Adriatica e Ionica infatti in questo senso potremmo anche noi essere interessati ai piccoli pelagici penso che se ce li offriti ce li mangeremo anche i piccoli pelagici sono quattro ce ne sono altre tre è la strategia per il Danubio la strategia per la Regione Alpina e la strategia per i Paesi Nordici istituite in diversi anni e che vedono la partecipazione di un certo numero di Stati comprese le Regioni o alcune Regioni appartenenti a questi Stati ad esempio adesso non ho gli strumenti per mostrarvi però per quel che riguarda la strategia che più ci interessa ossia quella per le Regioni Adriatica e Ionica l'Italia è come tagliata in due le Regioni che ne fanno parte sono quelle ovviamente della parte più Est che dà sul Mediterraneo con alcune eccezioni si sta anche la Lombardia ad esempio che sta un po' dappertutto ma anche noi anche l'Umbria è compresa anche perché altrimenti non sarebbe stata da nessuna parte perché sono interessanti queste esperienze perché attraverso queste strategie che per quel che riguarda le Regioni vengono coordinate da altrettanti quattro intergruppi del Comitato delle Regioni sono dei veri e propri laboratori nei quali le Regioni coinvolte in queste strategie si confrontano in processi di multi-level governance con gli Stati e con anche le istituzioni europee per raggiungere degli obiettivi che hanno soprattutto finalità territoriale infatti come espressamente si dice nei documenti istitutivi di queste strategie ciò che si punta come emerge anche dalla denominazione stessa macro-regioni gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso queste macro-regioni sono obiettivi che guardano principalmente a che cosa? a coesione territoriale sviluppo territoriale e quindi le Regioni sono nella sostanza i principali destinatari di questi processi soprattutto in chiave trasfrontaliera che anche qui è un altro orizzonte tematico da approfondire da partire dal 2007 gli intergruppi del Comitato delle Regioni riguardano anche delle tematiche specifiche oltre che le strategie macro-regionali si interessano anche di contenuti di speciale interesse regionale attualmente ce ne sono nove sono formati ogni intergruppo da un certo numero di membri del Comitato delle Regioni ve ne citano alcune Brexit addirittura una delle più recenti vi partecipano le regioni che sono interessate alla Brexit guardando alle conseguenze della Brexit o anche alle opportunità che possono derivare dalla Brexit che ci sono non poche cooperazione trasfrontaliera futuro dell'industria automotive eccetera poi c'è il famoso patto dei sindaci che è rilevante per il Comitato delle Regioni perché recentemente il Comitato delle Regioni ha istituito la figura degli ambasciatori del Comitato delle Regioni per il patto dei sindaci cioè componenti del Comitato delle Regioni che si fanno carico ce ne sono circa 36 se non sbaglio che si fanno carico di promuovere l'adesione si chiama patto dei sindaci ma in realtà possono aderire tutte le Regioni intese in senso europeo dell'Unione e anche non solo dell'Unione perché è aperto all'Europa e non solo il patto dei sindaci che prendono si impegnano a mantenere dei risultati virtuosi dal punto di vista non solo climatico ma anche energetico e ambientale oggi quindi ulteriore rete è quella della piattaforma del gruppo europeo di cooperazione territoriale che coordina e favorisce l'azione dei GECT non so quanti di voi conoscono questo acronimo che pur essendo ahimè poco noto ha una sua decisa rilevanza per chi si interessa di cooperazione territoriale il GECT nasce in seguito a un regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio nel 2006 e punta ad istituire degli enti di diritto pubblico europeo dotati di personalità giuridica in tutti gli stati membri la finalità dei GECT è quella di favorire iniziative politiche azioni che puntino a realizzare interessi comuni agli enti che istituiscono il GECT stesso quindi comuni regioni contee che sono particolarmente attive dal punto di vista che so io della produzione della ceramica così come che si vedano accomunate da un'identità culturale che guarda ai percorsi religiosi o anche che intendono sviluppare una nascente e effervescente industria dell'automotive possono dare vita ad un GECT che ha il compito o anche degli enti delle università ad esempio esiste un GECT formato da università europee non c'è nessuna università italiana che punta a favorire l'interrelazione tra università e quindi elevare il livello di internazionalizzazione nella presentazione dei progetti di tutte le università che aderiscano al GECT sono altrettanti obiettivi e funzioni che possono essere adeguatamente attribuite e realizzate dai GECT e il Comitato delle Regioni ha un suo gruppo di membri e un suo apparato organizzativo che supporta l'azione e cerca di coordinare l'azione dei GECT collegate ai GECT ci sono le cooperazioni territoriali ma non approfondisco e concludo con tre ulteriori reti che guardano fuori dall'Europa che guardano in particolare alla cooperazione allo sviluppo mi riferisco all'Atlante per la cooperazione decentrata sigla in inglese ATLAS che è sostanzialmente un database che può essere non so se lo utilizzate nelle marche che può essere impiegato da tutti quegli enti regionali interessati a dare avvio a iniziative di cooperazione decentrata con paesi in via di sviluppo c'è in particolare uno strumento informatico che consente con grande facilità di incrociare domanda e offerta di cooperazione allo sviluppo un'offerta di un ente locale di un paese africano che chiede ad un ente locale di un qualsiasi paese europeo di realizzare dei pozzi di realizzare interventi agricoli di realizzare interventi di formazione dei giovani in un settore anziché in un altro e se si trova corrispondenza è possibile dare avvio a un vero e proprio progetto che trova poi finanziamenti in diversi fondi e disposizioni in Europa e non solo in questo caso è interessante perché qui gli enti europei svolgono una vera e propria politica esterna con omologhi non di altri paesi europei seppur di diversa nazionalità ma addirittura con paesi terzi con paesi di altri continenti continenti stesso discorso che vale per l'assemblea regionale e locale euro mediterranea Harlem e anche per la conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale nel primo caso è una sorta di ACP in miniatura ACP la sigla l'acronimo che sta per paesi dell'Africa Caraibi Pacifico che corrisponde anche a un'associazione gestita dalla commissione europea con i paesi appunto di quei territori che ho menzionato e che prevede un'assemblea un consiglio un segretariato in piccolo la stessa cosa ha fatto il comitato delle regioni creando un'assemblea una sorta di segretariato una commissione che assemblea paritetica enti comitato rappresentante del comitato delle regioni e rappresentanti delle regioni dei paesi della sponda sud del Mediterraneo e stesso discorso più o meno vale per il corelapse ossia quell'organismo che mantiene i rapporti con i paesi del partenariato orientale finita la lista finita la lista aggiungo qualche considerazione per cercare di far emergere alcune tipologie alcune caratteristiche che ci consentono di prendere in considerazione queste reti in maniera un po' più omogenea il primo elemento a cui guardare è la composizione le reti formate da enti con poteri legislativi sono pochissime ce n'è soltanto una regipex la caratteristica di questa rete consiste nel fatto tuttavia che nonostante il protocollo parli di sole assemblee legislative alla rete possono partecipare anche gli esecutivi anche i governi regionali infatti in questo senso se andiamo a guardare la composizione tra i 79 organi legislativi che partecipano al regipex ci sono anche diversi esecutivi per quel che riguarda l'Italia è il paese più rappresentato insieme alla Germania sono ben 18 gli organi con poteri legislativi registrati al regipex l'Umbria è sempre le marche invece sono presenti adesso non ricordo se sono presenti sia con giunta e assemblea solo con giunta o solo con assemblea la maggior parte comunque è con l'assemblea 11 sono assemblee di questi 18 poi ci sono tra quelli che appunto abbiamo menzionato gli enti ai quali possono partecipare solo i rappresentanti del comitato delle regioni i membri del comitato delle regioni e tra questi Harlem è l'omologo per il partenariato orientale gli ambasciatori del patto dei sindaci o gli intergruppi ai quali facevamo riferimento per le strategie europee le regioni non ci stanno ma hanno come dicevamo per la sussidiarietà nel comitato delle regioni un propulsore un facilitatore che per quel che riguarda ad esempio l'Arlem e il Coralep sta lì per favorire forme di cooperazione che coinvolgono anche le regioni stesso discorso vale per le strategie macroregionali europee che a partire dal coordinamento dell'intergruppo coinvolgono invece singole regioni perché poi all'interno di queste strategie sono presenti degli organi operativi formati da regioni ci sono poi tra le reti che abbiamo citato quelle che prevedono un'autorizzazione alle enti del territorio per poter partecipare e questo è il caso soprattutto del GECT o meglio il regolamento del 2006 lascia allo Stato il compito di prevedere o meno un'autorizzazione per l'ente del territorio alla partecipazione al GECT il nostro ordinamento che sia adeguato al regolamento perché in alcuni casi anche regolamenti richiedono comunque strumenti di adeguamento sia adeguato al regolamento con la legge comunitaria del 2008 prevede una procedura abbastanza complessa per la concessione l'autorizzazione a un ente di poter creare un GECT cosa che probabilmente rappresenta un limite come ho avuto modo insomma di ascoltare da alcuni diretti attori di queste esperienze relativamente ai GECT esistenti c'è un dato particolare sul quale tornerò in sede di conclusione attualmente i GECT sono 68 la maggioranza relativa dei GECT ossia 25 di essi più o meno il 45% vede la presenza dell'Ungheria e ancora più particolare è il fatto che 15 di questi 25 in cui c'è l'Ungheria sono i GECT formati da enti locali ungheresi e slovacchi e basta quindi la Ungheria è particolarmente attiva su questo fronte soprattutto con la Slovacchia tenete conto che l'Italia nonostante abbia altre dimensioni rispetto all'Ungheria ha solo 9 GECT infine ci sono le reti ai quali possono partecipare tutti e sono la maggior parte piattaforma monitoraggio Europa 2020 monitoraggio sussidiarietà cooperazione decentrata e il patto dei sindaci e qui sono centinaia le adesioni le partecipazioni l'Italia in alcuni casi è ben rappresentata in altri un po' meno è sicuramente super rappresentata e questo probabilmente richiederebbe qualche approfondimento nel patto dei sindaci pensate che sono 7.775 le adesioni al patto dei sindaci fuori proporzione in generale rispetto alle altre reti che arrivano al massimo quasi 400 nel caso dell'Atlante e ancora più sorprendente il fatto che di queste 7.700 più della metà ossia oltre 4.000 sono italiani sono comuni regioni e enti italiani una cosa ulteriormente sorprendente è che guardando a questa regione sono 5 i comuni che aderiscono al patto quindi Lumbria nonostante sia il cuore verde dell'Italia non sembra essere così attenta a questo patto dei sindaci nonostante invece il resto del territorio italiano è super super attento vengo rapidamente alle funzioni che svolgono queste reti una funzione svolta da tutti è quella di informazione formazione analisi e confronto si potrebbe dire informazione formazione anche analisi è poco importante a mio avviso non è affatto così e il caso delle Marche non è una dimostrazione uno dei principali limiti della partecipazione effettiva delle regioni al processo di integrazione europea è proprio la mancanza di informazioni e informazioni qualificate che in sostanza gli semplificano la vita alle regioni queste reti di cui vi ho parlato vanno proprio in quella direzione lì e lo fanno utilizzando diversi strumenti sito internet anzitutto newsletter all'interno del sito internet molte di queste reti assicurano degli spazi e degli accessi riservati organizzano workshop tematici seminari realizzano studi particolarmente utili se li si legge in alcuni casi e questo riguarda la sussidiarietà realizzano delle consultazioni che addirittura sono diversificate a seconda dell'obiettivo che si intende perseguire ma ancora più interessante a mio avviso è la funzione di favorire l'attuazione di piani di azione di politiche interregionali e questo è un compito che viene assolto in particolare dalla piattaforma dei GECT e dalle strategie macro-regionali perché è particolarmente interessante perché attraverso queste piattaforme si realizza quanto è stato raccontato relativamente alla regione Marche che però è una realizzazione di carattere pressoché episodico che riposa in sostanza sulla buona volontà e sulla fortuna di trovare un funzionario esperto e disposto a svolgere delle attività informative di sollecitazione invece nel caso si aderisca alla piattaforma GECT e ci siano dei GECT da coordinare gli enti del territorio che ne fanno parte sono chiamati a realizzare forme di azioni di politiche pubbliche insieme ad omologhi enti di altri paesi europei e quindi realizzando delle vere e proprie azioni esterne finalizzate a perseguire degli interessi comuni contribuendo poi in sostanza tra l'altro a creare oltre a una condivisione di conoscenze di esperienze di lavoro anche una condivisione di interessi che è un elemento particolarmente forte e di particolare valore se si guarda al processo di integrazione se prendiamo in considerazione i territori trasfrontalieri e questo dato noi lo ritroviamo sia in riferimento ai GECT che in riferimento alle strategie macro-regionali e da ultimo questo incoraggiare le relazioni internazionali con enti territoriali extra-europei che è una funzione propria dell'assemblea delle regioni e degli enti locali europei con i paesi mediterrani e della conferenza delle regioni europee con i paesi del partenariato occidentale nonché è una funzione svolta sicuramente anche da Atlas per l'operazione decentrata come dicevo nell'illustrazione delle caratteristiche di queste reti in tutti e tre i casi qui le regioni fanno una vera e propria politica estera tra virgolette andando a confrontarsi con regioni di altri di territori extra-europei tentando di individuare strategie strade comuni da percorrere e eccomi finalmente alle considerazioni finali a che servono queste reti qual è il principale vantaggio che deriva dall'azione dell'esistenza di queste reti confermare quanto c'è scritto sul trattato in merito al ruolo del comitato delle regioni quale garante del principio di sussidiarietà le reti lo hanno dimostrato in concreto il comitato delle regioni non ha lasciato ecco che quanto previsto nel trattato rimanesse lettera morta ma si è attrezzato in maniera particolarmente efficace a mio avviso per consentire alle regioni volenterose virtuose di applicare il principio di sussidiarietà il principio di sussidiarietà che non vuol dire semplicemente come in parte insomma è stato detto oggi supportare l'azione dei parlamenti nazionali perché attraverso il principio di sussidiarietà si prende coscienza degli spazi di azione degli spazi competenziali concretamente percorribili in termini di realizzazione di interessi pubblici da parte degli enti del territorio e in questo senso va anche la piattaforma di monitoraggio Europa 2020 che se è vero quanto emerge dagli studi presentati allo stesso comitato delle regioni buona parte buona parte dell'azione svolta di stimolo di critica positiva dell'istituzione europea sugli stati riguarda dei deficit che impattano proprio sul territorio e quindi necessariamente chiamano in causa le regioni e gli enti locali regioni e enti locali che però se non partecipano alla fase di elaborazione delle strategie delle pianificazioni di come si deve dare soddisfazione di desiderare di impimento a queste raccomandazioni e più in generale gli interessi che concorrono a realizzare gli obiettivi europei e viene relegata alla sola attuazione come si diceva anche prima e non potranno che rendere un servizio di bassa qualità solo se saranno solo nel momento in cui diverranno dei veri attori della multilevel governance quindi contribuendo direttamente a definirle le strategie e allora potranno anche attuarle in maniera non solo convinta ma anche più efficace e questo è quanto si dovrebbe riuscire a fare o è facilitato dalle piattaforme soprattutto su siderità e monitoraggio Europa 2020 in questo senso io ritengo che queste reti e il coordinamento fornito dal Comitato delle Regioni rappresentino una forma di facilitazione dell'azione regionale superiore a quella attualmente assicurata dal sistema delle conferenze regionali ad esempio in Italia uno dei grossi limiti che il nostro Paese ha a partecipare come livello regionale al processo di integrazione consiste nel fatto che ogni Regione fin dei conti ha le sue esigenze e non riesce o riesce con gran difficoltà a individuare degli interessi comuni o a rappresentare attraverso formule comuni manifestazioni di interesse comuni quali sono le posizioni condivise fino adesso a quel che mi risulta le conferenze regionali difficilmente riescono a raggiungere questo risultato cosa che invece probabilmente è più facile da realizzarsi e su scala europea attraverso questo sistema di reti concludo dando una risposta positiva a mio avviso all'interrogativo dal quale ero partito ma allora queste regioni che status hanno nel contesto dell'ordinamento europeo e addirittura più in generale nel contesto internazionale sono dei meri soggetti di diritto interno rispetto ai quali l'Unione Europea è cieca o invece hanno acquisito un loro status che non sarà uno status sovrano ovviamente ma che comunque è uno status diverso da quello di noi cittadini diverso da quello di un'organizzazione internazionale a mio avviso questa esperienza seppur ci scoffritte delle reti va in quel senso conferma questa affermazione e mi limito a due esempi a sostanziare ulteriormente rispetto a quanto ho già detto questa posizione io ho avuto modo durante le mie elezioni che ho finito da poco di ospitare il segretario di un GECT il dottor Giuseppe Olmeti che è segretario del GECT a EUCC Ceramiche che si occupa delle città della ceramica e mette insieme una trentina non una trentina quasi un centinaio di città prevalentemente italiane ma anche francesi spagnole e rumene i miei studenti sono rimasti meravigliati sentir parlare Olmeti che sembrava un diplomatico nonostante Olmeti lavori per il Comune di Firenze le relazioni i rapporti interregionali alias internazionali erano così tanti e così anche raffinati che non si può non definire quel tipo di attività come un'attività quantomeno di rilievo internazionale quindi da un punto di vista proprio potente fattuale anche un Comune anche dei Comuni hanno un ruolo svolgono un ruolo nell'ambito delle relazioni quantomeno trasfrontaliere in questo caso transnazionali secondo vi ricordate di quanto vi ho detto relativamente all'Ungheria e alla Slovacchia beh la maggior parte di quei 15 jet quasi il doppio di quelli presenti in Italia sono tutti al confine tra l'Ungheria e la Slovacchia quindi è una sorta di lenta e silente nascita della grande Ungheria la nuova Slovacchia Ungheria che si sta probabilmente creando per affinità culturali una volta la Slovacchia era ungherese che si sta creando attraverso questo reticolo una sorta di come dire in mente una 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 ragnatela sempre più fitta che piano piano si sta creando tra questi territori per abbattere quelle barriere di confine che in realtà già non esistono perché se si va in Ungheria in Slovacchia effettivamente si accorge che si passa da un confine ad un altro con grande facilità e se non è politica estera questa tra virgolette qual è la politica estera grazie e scusate se ho un po' esagerato grazie adesso concludiamo abbiamo un intervento programmato che è quello del consigliere regionale Roberto Morroni grazie buon pomeriggio a tutti da parte mia un cordiale ringraziamento al centro studi giuridici e politici per questa iniziativa e un grazie anche all'assemblea legislativa e all'università degli studi di Perugia un apprezzamento sincero anche ai contributi estremamente qualificati che ho avuto l'opportunità e il piacere di sentire quest'oggi ma questa occasione rispetto anche delle presenze che ha fatto registrare credo che rappresenta invece un'occasione estremamente utile estremamente stimolante per sviluppare una riflessione intorno a un tema che è un tema cruciale perché parafrasando Einstein io credo che dovremmo dire che di Europa ci dovremmo occupare perché è lì che trascorreremo gran parte del nostro futuro insomma se non comprendiamo questo forse stiamo commettendo un errore cruciale vedete io sono in consiglio regionale da poco tempo ho compiuto i miei primi due mesi e questa però è stata una bella opportunità perché non avendo vissuto quindi direttamente le esperienze connesse al tema oggetto dell'incontro mi sono dovuto tuffare un attimo quindi approfittando anche delle strutture cercare di acquisire informazioni sullo stato dell'arte e devo dire che avendolo un po' riscontrato lo stato dell'arte dell'Umbria sul quale poi ci tratterremo un po' mentre ascoltavo la dottoressa Sardella provavo una certa invidia nel sentire le performance diciamo così della regione Marche che è una regione che per dimensioni per caratteristiche è molto simile alla nostra non parliamo di Lombardia o Veneto ci sembrano lontane dimensionalmente e per tante altre caratteristiche ma ascoltando la pratica le pratiche anzi virtuose che la dottoressa Sardella ci ha esposto francamente ho provato una certa invidia perché allora significa che insomma c'è qualcosa da migliorare in noi e vengo subito al dunque c'è una legge regionale che è la legge numero 11 del 2014 che ha costruito diciamo così l'architettura dei processi istituzionali e delle azioni dando un'indicazione molto importante quindi nell'ambito del tema della partecipazione della regione umbria alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione Europea il taglio che ha lanciato quella legge era il taglio che dava all'assemblea legislativa un ruolo importante come giusto che sia essendo l'assemblea legislativa l'organo sul quale ricade la funzione di indirizzo politico e questa legge con il suo impianto concretizzava questo proposito come dicevo poc'anzi attraverso una serie di processi istituzionali e di azioni ben precise alcune ricadenti sulla stessa assemblea altre sull'esecutivo e quindi sulla giunta regionale sono passati quattro anni perché è entrato in vigore a luglio del 2014 quindi se dovessimo tirare una linea e tracciare un bilancio ebbene sono molto più le ombre che non le luci di questo bilancio ora credo che possa essere interessante anche riflettere sulle ragioni di questo ritardo perché nulla accade a caso a mio modo di vedere è un ritardo dovuto ad una difficoltà chiamiamola così di natura organizzativa a declinare tutti i compiti perché oggettivamente c'è una certa complessità su tutta la materia quindi c'è una difficoltà come dire fisiologico organizzativa nel mettere in piedi e nell'adeguarsi ai processi immaginati oppure e la mia idea cade su questa seconda ipotesi prevalentemente siamo dinanzi ad un insufficiente livello di consapevolezza politica sull'importanza sul carattere decisivo che queste tematiche rivestono per il futuro della nostra regione così come del resto del nostro paese allora io vorrei un po' anche argomentare queste valutazioni passando in rassegna molto velocemente insieme a voi alcuni articoli del dettato della legge che ho richiamato e rimarcare appunto le situazioni dove siamo dinanzi non ad un'applicazione parziale ma siamo dinanzi ad una totale illusione di quello che la normativa aveva introdotto potremmo catalogare diciamo così questi ritardi queste lacune in alcuni ambiti il primo ambito è quello informativo che proprio per questo ha una valenza centrale e quindi la legge metteva in campo alcuni obblighi informativi ben precisi li metteva in capo naturalmente alla giunta quindi all'esecutivo e questi obblighi però sono stati ad oggi quindi dopo puntualmente disattesi vorrei citarvene alcuni la giunta si legge nell'articolo che poc'anzi richiamava l'articolo 3 dovrebbe informare l'assemblea legislativa ad esempio sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione Europea con l'oggetto delle proposte e gli atti su cui la giunta regionale o l'assemblea legislativa abbiano spesso una posizione in questi 4 anni non è arrivata nessuna segnalazione in quel senso così come avrebbe un compito di informare sugli atti adottati dalla giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei ancora un altro esempio sull'esecuzione regione di decisioni della Commissione Europea o del Consiglio dell'Unione Europea e permettetemi di proseguire ancora perché credo che siano tematiche che offrono un rilevo un profilo centrale i risultati dei lavori della sessione europea della conferenza permanente Stato-Regione anche qui nessuna segnalazione ad oggi da parte della giunta oppure le proposte e le materie di competenza delle regioni che risultino inserite nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e le risultanze e le risultanze ovviamente delle riunioni medesime non voglio annoiarvi oltre un ultimo riferimento mi sento di dovervi comunque rappresentare l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'unione europea ecco credo che l'elenco potrebbe continuare insomma credo che si tratti di questioni che hanno oggettivamente una valenza centrale al fine di costruire un sistema organico come la legge nel 2014 si prefiggeva di realizzare c'è poi un'altra tematica in un altro blocco di questioni che attengono e questo l'ho potuto già toccare con mano nonostante la mia giovane esperienza in qualità di consiglio regionale che anche questo era un compito che ricadeva sulla giunta la cosiddetta assistenza documentale ah io sono arrivato a ridosso della sessione europea mi sono ritrovato sul tavolo e due giorni dopo si doveva discutere una serie di faldoni di questa natura ecco credo che quello sia un modo del tutto inefficace di affrontare le questioni l'assistenza documentale quindi ha una valenza centrale e su questo voglio richiamare la vostra attenzione un passaggio che ritengo estremamente importante perché il ruolo la funzione dell'assemblea legislativa il ruolo dei singoli consiglieri naturalmente dipende anche dalla quantità e dalla qualità delle informazioni su cui l'assemblea nel suo insieme i singoli consiglieri possono come dire impegnarsi e calarsi con il proprio impegno allora la legge prevedeva una cosa estremamente intelligente e cioè un'intesa che vedeva impegnata la struttura tecnica dell'assemblea legislativa la struttura tecnica della giunta regionale insieme soldarsi creare un'equip proprio per concretizzare questo importantissimo servizio io direi propedeutico ad uno svolgimento efficace della funzione di indirizzo politico che all'assemblea compete e che la legge si prefiggeva di rafforzare di mettere bene il risalto ebbene questa intesa doveva essere sancita entro se non ricordo male 90 giorni dell'applicazione della legge del 2014 del luglio 2014 c'è stato un lavoro da parte delle strutture tecniche quindi si è realizzata questa intesa però c'è un piccolo problema questa intesa non è stata mai formalizzata e quindi ad oggi questa intesa è ancora nei cassetti e non ha prodotto i propri effetti positivi credo che l'occasione di oggi almeno per quello che mi riguarda mi darà la spinta per far sì che questa intesa possa uscire fuori dai cassetti quindi adoperarmi affinché possa tradursi in realtà sarebbe credo un bel segnale che occorre a questo punto dare nella direzione di cui stiamo parlando quest'oggi quindi c'è una sorta di di debolezza dell'assemblea legislativa non c'è un necessario e fondamentale raccordo diciamo che l'assemblea è tenuta un pochettino ai margini e tutto ruota intorno all'esecutivo ma creando una situazione di oggettivo squilibrio che non va nemmeno a vantaggio dell'operatività dell'esecutivo e che priva la regione dell'Umbria di una condizione questa sì politica fondamentale che è quella di una posizione unitaria che sia frutto di un lavoro consapevole rigoroso dell'assemblea legislativa e nel contempo dell'evoluzione vorrei darvi ulteriori aspetti credo anche questi interessanti sempre mettendo in fila una serie di inadempimenti gravi e vorrei focalizzare l'attenzione proprio su alcuni compiti anche che venivano ascritti all'esecutivo ad esempio la giunta regionale riceve gli atti europei a 15 giorni di tempo per poter trasmettere diciamo così deliberazioni dell'assemblea questa prassi e questa pratica virtuosa non è stata mai realizzata per cui di nuovo viene amputata una funzione fondamentale dell'assemblea legislativa il dialogo politico ho sentito oggi anche nella relazione del dottore esposito questo tema anch'esso fondamentale perché poi serve anche a dar corpo a una collegialità a un coinvolgimento generale di tutte le articolazioni anche istituzionali del nostro paese coinvolgimento degli enti locali dei comuni quindi anche qui assistiamo a processi strutturati organici di coinvolgimento che vada al di là di momenti occasionali o sporadici che quindi alla fine lasciano il tempo che trovano e quindi è un'altra area importante di miglioramento e un'altra area decisiva di attuazione dello spirito e dei contenuti della legge del 2014 ancora entro il mese di marzo di ogni anno la giunta regionale dovrebbe uso il condizionale presentare il disegno di legge regionale europea che è insomma un bel zunto è qualcosa ricco di contenuti questo adempimento è stato svolto unicamente nel 2010 siamo nel 2018 i POR ho sentito la dottoressa Sardella che faceva riferimento ai POR i POR sono un momento fondamentale nella programmazione degli interventi sono delle risorse essenziali perché con la situazione che viviamo oggi le regioni non hanno così tanti fronti dove andare ad attingere risorse e quindi è un altro di quei terreni dove si gioca in maniera decisiva il futuro dei nostri territori e il futuro complessivo della nostra comunità regionale anche lì è di fondamentale importanza che un'assemblea legislativa abbia un coinvolgimento che vada al di là e che non può essere limitato semplicemente al passaggio di queste documentazioni e da un voto diciamo così rituale che però non aggiunge nulla non dà nessuna indicazione costruttiva e anche di arricchimento a quelle che possono essere le proposte le elaborazioni dell'esecutivo quindi anche qui occorre anche un lavoro preparatorio un coinvolgimento più a monte dell'assemblea non solo nella fase diciamo così di un'approvazione definitiva che quindi priva ancora una volta l'assemblea di un ruolo e della propria funzione di indirizzo politico io non voglio farla molto lunga perché credo che gli elementi che fino a questo punto ho avuto l'opportunità di offrirvi credo che reclamino con forza e con estrema urgenza un cambio di passo per quanto riguarda la nostra regione un salto di qualità che ben inteso ricade sull'esecutivo proprio per questo squilibrio che ad oggi emerge in maniera estremamente forte e quindi sull'esecutivo sulla giunta regionale ma ricade anche sull'assemblea legislativa nel suo insieme io sono sempre dell'avviso che i terreni bisogna anche conquistarli oltre che mettersi in una condizione di attesa affinché qualcun altro li possa concedere al di là della legittimità e dell'assegnazione già a priori di uno spazio che però se non viene esercitato che qualcun altro che lo occupa che il privato non esiste quindi credo che l'assemblea legislativa debba prendere coscienza di questa situazione e debba agire affinché si possa imboccare una strada diversa del resto c'è un'opportunità in questo senso e la voglio condividere con voi l'opportunità che la legge stessa prevedeva al termine dei primi tre anni di applicazione un momento di verifica proprio per poter misurare il grado di attuazione l'efficacia dell'impianto normativo che era stato messo in campo è inutile che vi dica che anche questo appuntamento non è stato non è stato ricordato e tantomeno è stato esercitato siamo a quattro anni quindi siamo con un anno di deroga rispetto a questo momento di verifica e di doverosa e necessaria verifica sull'attuazione della legge e credo che appunto si debba agire in questa situazione perché anche un passaggio che deve prendere colpo attraverso una relazione della giunta e anche attraverso una relazione della prima commissione permanente del consiglio regionale dell'assemblea legislativa che è la commissione competente appunto per materia e quindi due angoli visuali diversi ma mi agono convergenti nel poter appunto rilevare la necessità di uno scatto di un cambio di marcia deciso proprio per far sì che la nostra regione possa ispirarsi e possa realizzare pratiche in linea con quella che è la prassi in corso da tempo in altre regioni virtuose abbiamo anche qui se non ho compreso male una rappresentante della regione Emilia Romagna ecco voglio dirvi approfitto di questa presenza graditissima per dire che tra i vari adempimenti presenti nella sessione europea come sapete c'è anche quella della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi di indirizzo emanati dall'Unione Europea per dare una misura di questa diversità profonda che c'è tra una regione e l'altra in questo caso con l'Emilia Romagna e l'Umbria questo è il lavoro della giunta regionale dell'Umbria in assolvimento di questo compito in una pagina questa è la relazione dell'Emilia Romagna sullo stesso tema sono 32 cartelle belle dettagliate mi sono anche divertito a leggerle e quindi da lì si percepisce che insomma c'è una tensione radicalmente diversa c'è un'attenzione radicalmente diversa c'è una profondità di analisi e di capacità anche di programmare estremamente diversa che non ci possiamo consentire però come Umbria perché altrimenti lamenti sui ritardi stiamo indietro stiamo perdendo terreno aumentano i poveri chiudono le imprese aumentano i disoccupati questa è la parte del lamento dove siamo particolarmente ferrati e bravi qui c'è la fase invece dove occorre essere protagonisti del nostro futuro perché il futuro non è mai figlio del destino cinico e baro sono un scerrimo sostenitore del fatto che ognuno raccoglie per come semina questo vale per le persone vale ancora di più per le comunità questa comunità deve tirar fuori una personalità una voglia di futuro perché il futuro non è mai regalato da nessuno è conquistato questa grinta questa determinazione questo spirito volitivo lo dobbiamo tirar fuori lo dobbiamo misurare su tanti fronti e questo è uno di quelli di quelli che tira anche in ballo un impegno rigoroso delle istituzioni a tutti i livelli le assemblee rappresentative gli organi esecutivi credo che abbiamo tra l'altro una sollecitazione davvero pressante ad agire in fretta nella direzione di questo cambiamento perché siamo come citava anche la dottoressa Sardella e gli altri relatori della giornata siamo alla vigilia del quadro finanziario 2021-2027 che rappresenta un'opportunità straordinaria per una regione come la nostra perché i 5 obiettivi tematici che la commissione europea ha messo in campo e che vanno nella direzione di un'Europa più intelligente di un'Europa più verde di un'Europa più connessa di un'Europa più sociale e di un'Europa più vicina ai cittadini ebbene sono 5 obiettivi tematici dove noi al termine Europa potremmo tranquillamente sostituire il termine Umbria per un'Umbria più intelligente un'Umbria che guarda il futuro con più fiducia e con più volontà determinata e allora non possiamo perdere questa opportunità perché ogni treno che passa nel mondo d'oggi è ad alta velocità e quindi il treno che passa e che non siamo capaci di prendere rischiamo di non poterlo prendere mai più e le distanze che oggi si determinano nelle comunità sono distanze che proprio perché caratterizzate da una maggiore velocità nel loro determinarsi rendono più difficili le riprese e allora bisogna essere pronti reattivi tempestivi proattivi come ho sentito essere colleghi consiglieri delle Marche e nel suo insieme l'Assemblea legislativa delle Marche per poter cogliere un impegno e un dovere storico che è quello di far sì che questo nostro paese nel suo insieme e per quello che ci riguarda la nostra regione possano continuare a pieno titolo a sedere nel nord dei paesi in grado di dare sviluppo alle proprie comunità grazie grazie al consigliere Morroni per il suo sentito e intervento appassionato speriamo che anche l'Umbria riesca a saltare sul treno quindi non so se c'è qualche altro intervento se no noi chiudiamo i lavori io ringrazio ancora tutti molti dei relatori purtroppo sono dovuti andare via perché i collegamenti qua proprio per parlare non è che sia nel massimo quindi hanno dovuto anticipare la loro partenza ricordo che comunque tutto il convegno sarà da domani sul canale youtube dell'Assemblea legislativa quindi potrà essere seguito da chi non è potuto essere tra di noi grazie a tutti e buona serata grazie grazie